Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niccolò Paindelli, Antonio Battarini, Chiara Frigerio, Matteo Ripamonti, Luca Visconti, Saulo Sangalli, Paola Frigerio, Stefania Valsecchi, Daniele Blaseotto, Alberto Anghileri, Lorenzo Vassena, Alessio Dossi, Paolo Galli, Corrado Valsecchi, Giuseppe Ciresa, Emilio Minuzzo, Caravia, Caravia presente. Scusa, è presente Caravia? L'ho ripetuto per ricordare e non si parla d'altro. Simone Brigatti, Antonio Russi, Boscagli, Cinzia Bettega, Andrea Curti, Stefano Parolari, Giacomo Zamperini, Marco Caterisano, presente, 28 presenti, 4 essenti, quorum strutturale verificato. Avendo il numero legale possiamo procedere. Procediamo con il punto 1 all'ordine del giorno, le comunicazioni ex articolo 51. Lascio la parola alla consigliera Cinzia Bettega per una comunicazione sul tema relazione presentata il 20 ottobre. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ovviamente in questo Consiglio Comunale non si può fare a meno di riprendere quello che è accaduto durante la commissione di giovedì scorso, 20 ottobre, durante la quale è stata presentata una relazione affidata al Politecnico, che ha portato l'amministrazione a dire sulla questione della nuova sede comunale della quale si parla da anni perché è necessario trovare una nuova collocazione per gli uffici, per motivi vari, e che comunque si tratta di una necessità perché è stato scritto nero su bianco che il trasloco degli uffici doveva essere effettuato in maniera indifferibile, è stato detto, sì, ne abbiamo parlato per un anno, avevamo avuto un'idea diversa da quella dell'amministrazione precedente, volevamo trasferire gli uffici in piazza Garibaldi nell'immobile ex Deutsche Bank, però costa tanto e non se ne fa più niente. Un costo rilevante, ma assai rilevante è anche quello dell'eventuale trasloco in via Marco d'Oggiono, perché la perizia, ed è questo ed è bene che i cittadini lo sappiano, per precisa indicazione dell'amministrazione, è stata fatta sì sull'immobile di via Marco d'Oggiono, già di proprietà comunale, ma indicando che fosse demolito e ricostruito, come se fosse la cosa più normale del mondo. Un immobile acquistato dalla regione, già sede del Politecnico, acquistato a 5.770.000 euro, una cifra stabilita da una perizia dell'agenzia delle entrate, questo per rispondere a chi crede che aver affidato una perizia sia stata una novità gigantesca di merito, è sempre stato fatto così. Nelle amministrazioni si prendono delle decisioni dopo valutazioni di tipo tecnico, di tipo economico e così via. Ecco, io mi chiedo come è stato possibile che su un immobile di proprietà comunale venisse affidata una perizia che ne prevede l'abbattimento e per essere precisi, qui si trattava, riprendo la relazione del Politecnico, di abbattere oltre 8.000 metri quadri di costruzione, non una costruzione, non una palafitta, una costruzione messa insieme così con quattro mattoni, un po' di fango e quattro fili di paglia, 8.723 metri quadri. Ora io dico che come consigliere comunale voi mi fate fare il super lavoro, cioè dobbiamo curarvi su tutto, non va bene, non può andare avanti così. Appena arrivati la questione del Bione, c'era un milione e passa, cosa volevate farne voi? L'aula studio, il campus, quando c'era il Bione che aveva buchi ed entrava acqua da tutte le parti. Mi rendo conto che il tempo è finito e sono volata, riprenderemo la questione sicuramente in questa sede e in altre. Grazie. Grazie consigliera Bettega. Parola al consigliere Stefano Parolari, situazione a Mianto, aggiornamento nuovo comune. Prego consigliere. Sarò piuttosto breve ma rimango sempre più basito in questo stato dove dal punto di vista ideologico siamo tutti ambientalisti per la protezione della salute eccetera, poi ci sono le pratiche che ballano tre, quattro anni e quindi probabilmente la legge sull'Amianto, anche questa è un'invenzione un po' per giocarci su, perché o le cose creano problemi o le cose non creano problemi. Per cui mi chiedo perché dopo una commissione convocata il 3 dicembre del 2021, in cui mi si diceva che bisognava partire con i lavori il 26 maggio del 2022, ma non in termini inderogabili di 15-20 giorni, con tre anni di preparazione, nel caso del mancato, per il momento mancato, il nuovo comune non si è proceduto e in quanti casi in questa città non si sta procedendo, perché c'è stato l'obbligo di denuncia mi pare finito il 31-12-2014 o 2012, di queste cose. Quindi se il comune analizza una situazione assieme agli entri preposti, arriva dalle determinazioni, se lo spazio è di 15 giorni, sono il primo a dire che forse siamo un po' troppo tranquilli, ma se lo spazio sono mille giorni, probabilmente non crediamo molto in quello che professiamo nelle nostre visioni politiche sull'ambiente, sulla salute, eccetera. La politica non è quello che si dice, ma quello che si fa e vediamo qui una pesante contraddizione. Legandomi a questo, devo riprendere l'intervento della consigliere Bettega, credo che tutta la vicenda che ha portato alla Commissione, alla Barahonda, penso di giovedì, sia una vicenda che debba farvi profondamente riflettere sulla vostra capacità amministrativa, perché non è che da questa parte della barricata ci sono dei personaggi strani, ci sono dei personaggi che vi hanno detto quello che sarebbe finito, e cioè dritti, dritti contro il muro. Dritti, dritti contro il muro. Grazie consigliere Parolari, parola al consigliere Ciresa, intervento su nuova sede comunale. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io, anch'io, volevo rimarcare proprio velocemente queste scelte sbagliate che sono state prese. E mi chiedo, ma lo chiedo fortemente perché... Per favore, scusi consigliere, se in aula evitiamo di parlare, riusciamo anche a comprendere quello che dice il consigliere Ciresa, visto che sta parlando. Grazie. Prego consigliere. E mi chiedo fortemente proprio perché non si è seguita l'ipotesi di continuare il progetto di via Marco D'Oggiono. Ormai era lì, diciamo, quasi metà pronto, con la sede, l'immobile ha acquistato. Un primo step di quattrini per partire col primo lotto. E poi su un'operazione di questo tipo, importantissima, perché la sede del comune è una delle priorità che un comune deve avere per servire bene i cittadini in tutti gli uffici che vengono, che sono a disposizione. Non capisco perché non si sia pensato ad accendere un mutuo, un mutuo ventennale, con allora, due anni fa, gli interessi erano pressoché poco più di zero. E quindi se si faceva un mutuo a tasso fisso, l'andamento del mercato di oggi finanziario non avrebbe inciso più di tanto. Quindi ecco, proprio questo, secondo me, l'errore grosso che è stato fatto. Se avessimo percorso quella strada di via Marco D'Oggiono, adesso o comunque fra pochissimo tempo, avremmo avuto il comune con tutti gli uffici sistemati e non dislocati in cinque o sei sedi diverse. I cittadini sono veramente, io ne sento parecchi, sono veramente frastornati. In tante occasioni non sanno dove andare quando ho bisogno di cose particolari dagli uffici del comune. Quindi ecco, la mia è proprio un dissenso totale a questa scelta di voler congelare tutto e non più invece pensare alla priorità della sede comunale e degli uffici comunali. Grazie consigliere Ciresa, parola consigliere Emilio Minuzzo, intervento sul nuovo comune. Prego consigliere. Grazie Presidente, un ecipit su un tema che oramai ha scaldato gli animi lungamente e che purtroppo non vede un epilogo soddisfacente per la città. Inizierei salutando la Presidente Bonacina, che però è assente, il segretario De Martino, che è assente, i dirigenti Cereda e Girardoni, che sono assenti, la coerenza purtroppo assente anche lei. Questo perché? Perché purtroppo abbiamo avuto una lezione di Realpolitik. La trasparenza è un tema che non piace, è un tema che tante volte, visto come un disturbo, è comodo per accusare gli avversari, poco pratico però da utilizzare quando invece andrebbe fatto da subito. Abbiamo molto apprezzato la commissione di giovedì, dove poi il venerdì abbiamo ricevuto la relazione del Politecnico che ci ha permesso di capire il perimetro nel quale ci muovevamo e nel quale si erano mossi i tecnici per 130-140 mila euro su indicazione dell'amministrazione. Tema non secondario, né nella riflessione, né nell'analisi dei numeri. Questo va detto in maniera importante, ma noi che siamo magari un po' lenti siamo rimasti indietro, stiamo ancora cercando di capire il numero effettivo dei dipendenti, stiamo ancora cercando di capire quali erano le rimostranze di ATS un anno e mezzo fa, stiamo ancora cercando di capire dove sono le carte che giustificavano le dichiarazioni sugli 8 milioni di intervento su Palazzo Bovara, insomma stiamo cercando ancora di capire tantissime cose ma come al solito rimane la cortina di fumo, l'ha arrosto o l'ha rubato qualcuno o non c'è mai stato, purtroppo. Non abbiamo ritenuto accettabili le giustificazioni che sono state date, non abbiamo ritenuto accettabili le spiegazioni che sono state date, l'abbiamo evidenziato in altre sedi, abbiamo già palesato le nostre preoccupazioni per il futuro di via Marco D'Ogiono, sulla quale vigileremo con particolare e solerte attenzione. Diciamo che l'epilogo ci fa sovvenire un'immagine, l'immagine di quel comandante che scappa e abbandona la nave, ma attenzione signor Sindaco perché mentre lei si dissocia dalle responsabilità di una regia sua, a bordo della nave che sta andando a picco rimangono i cittadini e i dipendenti del Comune. Grazie. Grazie consigliere Minuzzo, parola al consigliere Filippo Boscagli per l'intervento sul Palazzo Municipale. Sì, grazie, proseguo quanto anticipato dai colleghi di minoranza, citando anche interventi non miei. Falsità per coprire un errore di sottovalutazione e nel merito delle argomentazioni. Tra le dichiarazioni che ho letto e sentito ci sono imprecisioni che rasentano la bugia. Come amministrazione, a rispetto delle valutazioni disinformative di fattore Lecco e altri, avevamo già analizzato altri stabili e soluzioni. Entrando nel tema di questi anni, tanto tuonò che non piove, direi anche se l'atteggiamento del Comune ha avuto palesi tratti di supponenza non rispettosi del valore costituzionale della sussidiarietà. Posso dire che questa necessità di sottolineare elementi di discontinuità ha ancora dopo due anni palesa debolezza. Il cambio di passo poteva essere dettato da un'accelerazione o dall'aggiornamento di progetti in corso. Invece noto solo un accanimento contro il passato, che peraltro non chiarisce dove si voglia andare, al di là degli slogan e delle parole d'ordine. Sono passati due anni, c'è un problema di concretizzazione che rischia di diventare la cifra di questa amministrazione. Ora, queste parole non sono nostre anche se noi le ripetiamo da due anni. Non sono nostre anche se le avevamo denunciate in campagna elettorale, ma sono del vostro sindaco, ex sindaco, comunque amministratore di questa città per dieci anni, Virginio Brivio. Noi lo ripetiamo, l'abbiamo denunciato insieme sabato mattina. Questa città non può sostenere l'incapacità di governo e le lotte interne al PD che state portando avanti nella dimostrazione plastica anche di questa sera. I banchi vuoti di alcuni consiglieri probabilmente parlano da soli, senza volerli nemmeno esplicitamente citare. Quello che avete dichiarato in questi due anni, soprattutto sul tema del nuovo comune, quello che non avete fatto, quello che non siete in grado di fare, e penso ai soldi persi per le aziende, come il tema delle sedi comunali di oggi, non è più tollerabile, davvero stavolta, mentre siamo sempre stati oggettivamente misericordiosi nel poter tollerare errori fatti da questa amministrazione, davvero non è più tollerabile stavolta pensare che ci sia un possibile futuro per la guida di questa città. Io insieme agli altri colleghi l'ho detto chiaramente, sì stiamo chiedendo le dimissioni della Giunta. L'unica risposta che sembra essere possibile per tornare a un minimo di concretezza, come denunciata peraltro da Virginio Brio per questa città, è tornare al voto. Questa è una cosa che stiamo dicendo, stiamo ribadendo, e anche questa sera e nelle prossime sedi, e nei prossimi incontri, e nei prossimi consigli continueremo a ribadire. Grazie. Grazie consigliere Boscagli, consigliere Brigatti, nuovo comune, principio di realtà. Grazie Presidente. Sì, anch'io dopo aver ascoltato la Commissione 1 di giovedì, ho pensato fosse necessario intervenire per rispetto del principio di realtà che ha citato il Sindaco durante la Commissione, ma che sicuramente non ha rispettato, come nessun componente della maggioranza presente. Penso che il modo migliore per rispettare il principio di realtà sia a partire dalle vostre parole, quelle che avete detto nel Consiglio Comunale del 2 novembre 2021, che dicono qual è il vero motivo per cui siamo partiti con questo progetto, pensiero, legato alla Deutsche Bank, e non sono quelle che avete cercato di dire in Commissione. L'assessore Sacchi durante il Consiglio Comunale ha detto nell'ottica politica di individuare un unico edificio che possa diventare la casa di tutti, cittadini e dipendenti. Il Sindaco Gattinoni, nello stesso Consiglio Comunale, ha detto chiediamo due mesi per affacciarci al mercato e chiedere se ci sono immobili pronti a ricevere l'intera macchina comunale. Qualche giorno dopo il Consigliere Ripamonti, in un comunicato stampa, ha detto con il voto di martedì si è aperta una verifica doverosa sulla possibilità di individuare una sede unica per il municipio. Oggi tra l'altro questa cosa fa anche un po' sorridere, perché ci troviamo un comune spezzatino che è tutto il contrario di quello che avevate detto e non sappiamo neanche per quanto ce lo troveremo. Ricordo molto bene anche le mie parole nello stesso Consiglio Comunale. Si sta già tagliando su varie voci per interventi necessari. È evidente che questa decisione, l'ex Deutsche Bank, mette in difficoltà il nostro bilancio e non renderà sostenibile altre opere. Sono esattamente le stesse parole che avete detto per la prima volta durante la commissione di giovedì. Quindi non raccontateci, per il principio di realtà, che il vero motivo per cui è stato fermato l'iter riguardante via Marco Dogiono sia la verifica dei numeri, perché altrimenti l'iter sarebbe cominciato proprio dalla verifica dei numeri su via Marco Dogiono e sulla sua ristrutturazione, non sulla sua demolizione, che nulla a che vedere con il progetto in essere. Il progetto in essere era già stato trattato e si era parlato della demolizione ed era stata scartata perché non era sostenibile. Quindi non riusciamo a capire come sia possibile prendere una relazione che non tratta il progetto originario e farla passare come una forma di studio della realtà. Quindi io penso che possiate cantarvela, suonarvela tra di voi, raccontandovi sicuramente quanto siete bravi e previdenti. Io mi è sembrato quasi di sentire Nostradamus durante la Commissione perché si parlava come se si sapesse che sarebbe scoppiata la guerra e tutto il disastro economico che abbiamo in corso. Ma non pensiate che i cittadini credano che il vostro sia stato un esercizio di responsabilità perché è chiaro a tutti che si è trattato solamente di un capriccio autunnale che si è trasformato da un lato sicuramente in un danno erariale e una perdita di Presidente del Consiglio, segretario, dirigenti e tecnici comunali e dall'altro in una figuraccia grande come l'ex Deutsche Bank. Grazie Consigliere Brigatti. Ultima comunicazione pervenuta con la Consigliere Zamperini sulla sede comunale. Prego Consigliere. Grazie Presidente. Allora, intervengo rapidamente sulla scede di quello che hanno già dichiarato i colleghi. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo spiegato nel dettaglio anche tecnico tutte le perplessità che c'erano e che ci sono. Quello che a me interessa sottolineare questa sera e comunicarvi è che davvero la città non può pagare le scaramucce interne al centro-sinistra. Io ho visto davvero in questa situazione, mai come prima d'ora, una resa dei conti interna. Probabilmente, mi viene da pensare, in vista delle elezioni regionali in cui, è cosa nota, si candideranno probabilmente Virginio Brivio contro Fragomeli che è sponsor dell'attuale sindaco di questa città e sulla base di questa scaramuccia politica interna voi state facendo pesare e pagare il conto ai cittadini lecchesi. Io leggo testualmente. La relazione non prende in considerazione tutte le ipotesi. Non lo dice Zamperini, non lo dice Fratelli d'Italia, lo dice Virginio Brivio. Avete banalizzato un lavoro che meritava invece di essere rispettato. Non lo dice Zamperini, non lo dice Fratelli d'Italia, lo dice Virginio Brivio. Avevamo già fatto diverse operazioni comparative e scartato l'ipotesi della demolizione per quello che diceva prima il collega Brigatti. Non lo dice Zamperini, Giacomo e Fratelli d'Italia, lo dice Virginio Brivio. Se non ci fossero stati tutti gli uffici dentro nel progetto di via Marco D'Ogiono, i dirigenti non avrebbero avvallato questa ipotesi assieme alle altre istituzioni, eccetera, eccetera. Non lo dice Zamperini, Giacomo, non lo dice Fratelli d'Italia, lo dice Virginio Brivio. Perso un contributo sulla rigenerazione urbana nonostante ci siano oggi più risorse rispetto a quelle che ci stavano ieri. Non lo dice Zamperini, Giacomo, non lo dice Fratelli d'Italia. Lo dice Virginio Brivio. Voi avete sbugiardato l'operato dell'amministrazione precedente della quale molti dei colleghi che oggi stanno in maggioranza facevano parte e lo avete fatto esclusivamente per una resa di conti interna. Io vi chiedo davvero di trovare un briciolo di onestà e di ai colleghi di maggioranza in Consiglio Comunale valutare seriamente cosa state facendo, perché se quello che avete fatto dieci anni fa faceva schifo, lo dovete dire. Se invece quello che non è stato fatto andava fatto meglio è un altro discorso, ma queste sono parole del vostro ex sindaco, del PD del Partito Democratico, Virginio Brivio. E soprattutto, e chiudo davvero, la schizofrenia del sindaco di oggi che in commissione ha fatto una battaglia, manco fosse Batman a Gotham City, dicendo io non permetterò che con i soldi dei lecchesi si facciano questi scempi, si buttino via soldi. Ma siete stati voi a tirare fuori l'argomento? Siete stati voi a dire che volevate la sede in centro? Siete stati voi a dire che volevate accentrare i servizi perché così sarebbero stati efficientati? Non l'abbiamo detto noi. Noi dall'inizio vi abbiamo detto che la cosa non sapeva da fare. E quindi davvero ragioni, signor sindaco, su questi due anni di nulla e valuti davvero di fare come l'inglese che le ha citato in commissione, rassegnando le sue dimissioni. Le soluzioni per il futuro, e chiudo Presidente, non ci sono. Noi abbiamo detto di valutare via Marco Dogiono, noi abbiamo detto magari di prendere in considerazione altri edifici come via Egalada dove c'è l'ex agenzia delle entrate. Nessuno ci ha dato soluzioni alternative. Quindi siete partiti dicendo facciamo la sede del secolo in centrolecco dove tutti gli uffici vengono accentrati, avete concluso e finito il vostro percorso di grandi analisi pagate dai cittadini lecchesi con un nulla di fatto dove gli uffici sono ancora più frastagliati e divisi e separati rispetto a prima. Io davvero non ho parole e vi invito a una sera riflessione. Grazie. Grazie consigliere Zamperini. Terminato il punto 1 all'ordine del giorno, passiamo al punto 2, le domande di attualità ex articolo 52. Lascio la parola alla consigliera Cinzia Bettega per la domanda sul tema ordinanza del sindaco del 5 ottobre. Prego consigliera. Sì, grazie. Allora, naturalmente l'ordinanza del 5 ottobre è quella famosa ordinanza che vieta di dare cibo alla fauna che i cittadini possono incontrare, parlo di cigni, papere, fauna che possono incontrare lungo le rive dell'Adda. Poi ai cani randaggi notoriamente uno dei problemi più sentiti della città e poi avete diciamo aggiunto anche i gatti e così via. A parte la figura diciamo così fatta anche a livello nazionale. Io personalmente ne faccio anche una questione di libertà adesso e non si può fare questo e non si può fare quello. Abbiamo le regole sul riscaldamento che faccia caldo non fa freddo e va bene. Abbiamo avuto regole pazzesche per la pandemia, l'abbiamo rispettato, che adesso anche ci sia il divieto di dare un po' di pane secco a qualche papera oppure a un cani randaggi peraltro quasi inesistenti mi sembra troppo. Ma visto che dopo la figuraccia avete diciamo così fatto una deviazione, avete detto che in realtà quello che volete contrastare è il problema dei roditori, io chiedo per questo problema dei roditori. Oltre ad evitare che i cittadini vadano a dargli personalmente da mangiare ovunque essi siano, avete preso qualche altra iniziativa? Cosa facciamo per questo grandissimo problema secondo voi? Perché allora i cittadini si asterranno dal cibare i roditori. Il Comune cosa fa? Attendo la risposta su questo tema, grazie. Grazie consigliera Bettega, ci sarebbe il consigliere Parolari ma lo vedo assente quindi lo mettiamo in coda, consigliere Minuzzo Idem, consigliere Brigatti, allora torniamo su Parolari, una domanda a venta d'oggetto la rimozione dell'automobile per la manifestazione del secondo raggruppamento degli alpini. Prego consigliere Parolari. Senza voler polemizzare ma per accertare. Io di solito avevo altro, quando c'erano queste manifestazioni ero il primo, adesso le priorità della mia vita sono un po' come il Comune che non è più la priorità, io ho altre priorità per cui non sono riuscito ad andare a accertare personalmente la situazione, sono stato avvertito quasi subito alla mattina di questa situazione. Quello che voglio manifestare non è una protesta ma cercare di capire uno quanti sono i reali numeri delle rimozioni fatte, perché questo conta, e come era disposta tutta la cartellonistica. A me hanno detto che non era disposta in modo sufficiente, mi hanno mandato anche delle documentazioni. Io naturalmente ho altre campane in giro anche per Corso Martri che non mi hanno detto le stesse cose, per l'amor del cielo, però questa situazione ha creato un certo tipo di disagio. Quindi capire i numeri, capire come è stata fatta la segnalazione, perché tante volte e chi l'ha fatta? Perché temo che non la facciano più i nostri uffici e questo ha delle conseguenze. Se chi lavora sulla città non conosce la città, si attiene alle regole ma non conosce gli usi, eccetera. Per cui capire questa cosa è nel caso, se i numeri siano tanti, prendere in mano la situazione come amministrazione, perché credo che non sia la volontà di nessuno essere dalla parte della mannaia con le multe, con le rimozioni, eccetera. Per cui se è possibile, ed è giusto soprattutto, possibile e giusto, se è ingiusto non si fa, se è possibile e giusto affrontare con i cittadini colpiti un percorso, probabilmente è il caso di farlo, soprattutto se sono molti. Perché è chiaro che se in un ambito abbiamo un numero limitato di persone che sono state colpite, probabilmente la responsabilità va a loro. Se invece il numero è molto elevato, qualcosa può non aver funzionato. l'altra cosa che sottolineo è, se è stata, non lo so, individuata nella segnalazione e nella pubblicizzazione un'area alternativa a queste persone dove parcheggiare. sostanzialmente questo, capire un po' come sono state fatte le cose. Io conosco il percorso perché, diciamo, a parte che ci vivo, la marciapiede di Corso Martiri, dove è stato rifatto, è stato rifatto sostanzialmente con me, assessore, con me sulla strada. È un percorso di 500 metri, gran parte di queste persone non ha un posto auto, ma non può avere un posto auto. Per com'è la città? Perché fanno parte, fa parte del centro, non storico propriamente detto, giuridicamente detto, della città, ma fa parte dell'antico nucleo che il primo aprile del 1968, quando nemmeno io ero ancora nato, è stato individuato come il perimetro urbanistico, chiamiamolo, originario. Grazie consigliere Parolari. Quindi, quello che concludo, ripeto, i numeri e se è possibile andare incontro a queste persone. Sottolineo che io non ho preso la multa, perché magari qualcuno pensa male. Grazie consigliere Parolari. Parola ora al consigliere Minuzzo. Una domanda su sicurezza, rioni e viabilità. Prego consigliere. Grazie Presidente. Ma per quanto riguarda i rioni, volevo chiedere se ci sono delle novità o delle risposte riguardo ai fatti che sono accaduti alla Orca e poi a Malavedo, che si ripetono da mesi, che hanno visto una reazione importante dei cittadini, che si sono organizzati in forma privata per garantire la tutela dei propri beni e per garantire la, tra virgolette, sicurezza all'interno del rione. Questo lo dico da testimone perché sono stato a visitare il rione dove ho trovato gente in giro con le torce, vi hanno mostrato i gruppi WhatsApp, mi hanno presentato le foto e un elenco decisamente troppo lungo per essere accettabile di auto e beni che sono stati danneggiati. Lo dico perché credo che vada declinato nel contesto della situazione di Viale Turati, nella situazione dei vandalismi che sono successi nel quartiere di Maggianico e di altri episodi che si sono ripetuti. Io credo che sia il caso di non derubricare e di dare delle risposte. Faccio presente che questi cittadini hanno mandato anche delle raccomandate a tutte le autorità competenti, tra cui il Comune. Volevo sapere se c'erano delle novità o dei riscontri che erano stati dati e se era stata accolta alla richiesta di aggiungere quantomeno una telecamera nella zona alta del rione. Per quanto riguarda il tema della viabilità, due sono le domande. La prima è che ha anticipato anche il collega Parolari riguardo ai fatti accaduti ieri che poi già hanno avuto risvolti sulla stampa. Vorrei sapere intanto il numero definitivo delle auto rimosse ieri e anche il numero delle sanzioni elevate, perché alcuni residenti hanno avuto la bontà anche di spiegare che hanno ricevuto notifica degli agenti della polizia locale, in questo caso lungimiranti, perché hanno dato la multa solamente per l'inflazione ma hanno evitato che il veicolo venisse rimosso. Faccio presente che ad esempio anche se sono nella via qui di Marco D'Oggiono, la segnaletica che è stata posta non solo era carente, ma è stata posta solamente in alcuni punti della via. Quindi questo sicuramente non gioca molto a favore di una comunicazione ampia, anche perché tutti i cittadini sanzionati hanno detto e sono detti come sempre favorevole alla chiusura per determinate manifestazioni, ma solitamente ricevevano delle comunicazioni capillari, una segnaletica molto più chiara e molto più approfondita. Evidentemente se si tratta per davvero di 100 auto rimosse qualcosa non ha funzionato. Spero che non si voglia gestire questa pratica come quella del nuovo comune, un po' come quella degli alpini, dove prima si fanno gli ordini del giorno contro con dei punti abbastanza discutibili e poi si marcia tutti assieme. Per quanto riguarda il secondo punto invece qualche aggiornamento riguardo alla partenza della sperimentazione sul ponte viazione Visconti e se c'erano anche novità sul piano di emergenza e sulla possibilità che venga poi inviato e illustrato a tutti i consiglieri. Grazie. Grazie consigliere Minuzzo, consigliere Simone Brigatti, Ostello De Or e Bus Rotonda di Via Valico. Prego consigliere. Grazie Presidente. Sì, sull'ostello diciamo che siamo un po' stufi di dover sempre rispondere a cittadini che non sappiamo quando si apre. Vorrevo sapere a che punto siamo con tutte le autorizzazioni mancanti e sempre riguardo a una promessa che era stata fatta dall'assessore di visita dell'ostello da parte dei commissari della Commissione 4. Vorremmo sapere, visto che ad ottobre non sarà possibile fare questa visita come ci ha comunicato il Presidente, quando avverrà, perché comunque il nostro diritto è anche dovere verificare le strutture comunali. Per quanto riguarda invece il De Or, parco addio ai monti. La prima gara era andata deserta, so che c'è stata una seconda gara, non abbiamo saputo nulla del risultato di questa seconda gara, volevo sapere qual era la situazione e in caso di mancata assegnazione quali sono le problematiche rilevate durante questi bandi che non permettono l'assegnazione di questo luogo che è anche abbastanza strategico sul passaggio di pedoni e ciclisti. Infine, una domanda sulla stazione bus di cui si parla tra la rotonda di Via Palicco e il complesso Broletto Sud. A prescindere dalla discussione sull'opportunità o mero di fare l'opera lì, che è un punto molto trafficato della città, mi sono arrivate segnalazioni di residenti del Broletto che parlano di una convenzione esistente che indica come è indisponibile quell'area che si vorrebbe utilizzare per fare la stazione dei bus. Quindi volevo capire se avevate notizie a riguardo e qual era la situazione in merito. Grazie. Grazie consigliere Brigatti, consigliere Giacomo Zamperini, viabilità tra i due punti e sicurezza nei rioni. Prego. Grazie Presidente, è partita finalmente la sperimentazione tanto agognata dall'assessore Zuffi. Diciamo che i primi riscontri, non è che siano proprio positivi, ma sempre lei ha magari degli altri feedback, come si chiamano oggi all'inglese, visto che il sindaco ha detto che dobbiamo essere tutti quanti un po' più all'inglese, lo facciamo anche con i termini. Scherzi a parte, la situazione adesso è partita, quindi avrete l'occasione di valutare un po' di dati, un po' di intoppi. I cittadini non hanno compresa benissimo, almeno quelli che mi chiamano e quelli che mi cercano. Il suggerimento che vi do è quello di non avere la testa dura del dover dire per forza di cosa andiamo avanti. Una cosa, assessore Zuffi, gliela faccio notare però, lei non ha mai detto, né in commissione né in aula, che dietro a questo senso alternato ci fosse un'idea di pedonalizzazione e di chiusura al traffico delle auto. Cioè è uscita fuori nel comunicato postumo questa vostra ideologia green del dire meno auto ci sono meglio è. Io non vorrei, assessore Zuffi, che poi andando avanti così voi voleste arrivare un po' vicini a quello che sta facendo, beh pensare a Milano, dove alla fine uno per avere un'auto deve pagarla al doppio perché non entra. Ma poi mi risponde tanto, assessore, non si preoccupi. Quindi dicevo, valutate attentamente quello che state facendo. Noi per quanto ci riguarda lanceremo una raccolta firme per chiedere che la viabilità torni a essere quella precedente, soprattutto nella zona davanti alla clinica Mangioni. Chiederemo che il ponte sia fatta la sperimentazione sì, ma senza chiusure ideologiche il sabato, la domenica, nei festivi e negli altri orari in cui non c'è dato capire per quale motivo dovrebbe essere chiuso. E soprattutto perché si trovino le risorse per fare le rotonde che voi avete detto che erano necessarie. Cioè quelle davanti alla Ex Larius per intenderci, quella in via Leonardo da Vinci e quella dove c'è in piazza Manzoni davanti alla fine di via Dante. Ecco, questa è la nostra richiesta e faremo una raccolta firme e poi le farò avere anche i risultati. L'altra cosa invece che chiedo è se sulla sicurezza nei rioni state facendo qualcosa, perché davvero Sessore Piazza, anch'io ho fatto dei sopralluoghi a Maggianico e in altri rioni, la gente chiede videosorveglianza, chiede illuminazione, chiede rispetto nei parchi, chiede la possibilità di sentirsi anche un po' più tutelati, con qualche giro in più di polizia, di presidio del territorio. Queste cose qua mancano, non si tratta, per meno per quello che ho visto io, oggi di fatti gravissimi. Si tratta però di non lasciare che la situazione ci sfugga di mano. Io so che lei è sempre molto attenta per quanto riguarda questo tipo di segnalazioni, e quindi le chiedo in particolar modo a Maggianico nel parchetto San Rocco, alla Orca e in altre zone, non soltanto dove hanno tagliato le gomme, ma anche in altre zone dei rioni periferici, di attivare magari un servizio di una cosa che non viene più fatta, scusi Presidente ho concluso, e cioè il pattugliamento a piedi della polizia locale. Una volta avevamo fatto il vigile di quartiere, si ricorda? Forse no, perché non era ancora in amministrazione, però la invito a riproporre questa formula, perché come funzionava? Vedere la polizia di prossimità urbana che gira per i rioni a piedi è sicuramente una cosa che può essere utile anche come sicurezza percepita, non soltanto per tutto quello che l'ho detto prima. Grazie. Grazie, consigliere Zamperini. Consigliere Corti? Presidente, sull'ordine dei lavori, volevo chiedere se sarà possibile fare la verifica del numero legale dei presenti in aula. Grazie. Gattinoni? Presente. Regazzoni? Assente. Tagliaferri? Assente. Tavola? Presente. Sanseverino? Assente. Nigriello? Presente. Campione? Assente. Fusi? Assente. Paindelli? Presente. Battarini? Assente. Chiara Frigerio? Presente. Matteo Ripamonti? Presente. Luca Visconti? Presente. Presente? Presente. Saulo Sangalli? Presente. Paola Frigerio? Presente. Stefania Valsecchi? Presente. Daniele Blaseotto? Presente. Alberto Anghilerio? Alberto Anghilerio? Lorenzo Passena? Alessio Dossi? Presente. Paolo Galli? Presente. Corrado Valsecchi? Assente. Ciresa? Assente. Minuzzo? Assente. Caravia? Era per richiamarlo. Brigatti? Assente. Russi? Assente. Boscagli? Assente. Bettega? Assente. Curti? Assente. Parolari? Assente. Zamperini? Assente. Caterisano? Assente. 17 presenti. Con 17 presenti il numero legale c'è. Quindi... Prego. Assente. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da regolamento devono essere il 50% più uno, quindi 17 più il sindaco, quindi fra un quarto d'ora alle 19.50 rifacciamo l'appello e vedremo se sarà il numero legale. Il sindaco non conta i fini del numero legale. Siamo 16 più il sindaco, siamo 16 più il sindaco 17. Devono essere 17 consiglieri al momento dell'appello, chi ha risposto erano 16 consiglieri. Scusate, allora, non è difficile. Il Consiglio Comunale si riaggiornano alle 19.50 e si rifà l'appello. Grazie. Grazie a tutti. 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 Chiedo ai consiglieri di prendere posto. Lascio la parola al Dottor Russo per procedere con l'appello. Sindaco. Presente. Regazzoni. Presente. Tagliaferri. Assente. Paola Tavola. Presente. Anna Sanseverino. Presente. Roberto Nigrillo. Presente. Vittorio Campione. Assente. Clara Fusi. Assente. Nicolò Paindelli. Presente. Presente. Pattarini. Chiara Frigerio. Presente. Matteo Ripamonti. Presente. Luca Visconti. Presente. Saulo Sangalli. Presente. Paola Frigerio. Presente. Stefania Valsecchi. Presente. Daniele Blaseotto. Presente. Alberto Anghileri. Presente. Lorenzo Vassena. Presente. Alessio Dossi. Presente. Paolo Galli. Presente. Corrado Valsecchi. Assente. Assente. Giuseppe Ciresa. Assente. Emilio Minuzzo. Presente. Giovanni Battista Caravia. Presente. Simone Brigatti. Presente. Antonio Russi. Presente. Filippo Boscagli. Presente. Cinzia Bettega. Assente. Andrea Corti. Assente. Stefano Parolari. Presente. Giacomo Zamperini. Presente. Marco Caterisano. Presente. 28 presenti, 5 assenti. Sì. Grazie. Prima eravamo 31. Numero legale c'è, quindi ricominciamo col consiglio. Parola al consigliere Caterisano per la domanda su un tema viabilità. Parcheggi durante la manifestazione degli alpini. Prego consigliere. Grazie presidente. Purtroppo mi toccherà essere ripetitivo perché l'argomento è già stato trattato dai colleghi Parolari e Minuzzo. Cercherò di essere quindi molto breve. Abbiamo visto, abbiamo con entusiasmo potuto assistere i due giorni al weekend della donata degli alpini, al quale siamo tutti grati per aver scelto l'ecco, ma però purtroppo dobbiamo anche considerare che probabilmente ci sono state delle criticità riguardo la comunicazione, come già stato detto e anticipato, sulle chiusure delle strade e sulla mancata segnalazione o comunque insufficiente segnalazione dei parcheggi che non erano utilizzabili in quei due giorni. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai residenti che si sono lamentati di questa cosa. Io stesso devo dire la verità, non ho visto la segnaletica nella giornata di sabato perché poi sono andato a riverificarla, l'ho trovata distante, i cartelli erano distanti uno dall'altro e quindi potevano anche sfuggire. Se i numeri sono quelli che sono già stati anticipati nella giornata di oggi, c'è da fare delle riflessioni e da capire cosa è andato storto e perché è andato storto. L'altro tema che volevo toccare sotto l'aspetto delle manifestazioni che riguarda sì il weekend appena passato, ma non solo, è il discorso viabilistico quando ci sono manifestazioni importanti come queste. La città si intasa, anche qui c'è da capire se si può agire in maniera diversa, riuscire a avere un piano del traffico che possa sopperire alle chiusure delle varie strade, soprattutto del pezzo di Lungolago, che è quello che sicuramente crea più danni in assoluto a tutto il centro storico. Abbiamo visto sabato, nella giornata di sabato con Lungolago chiuso, quando gli alpini non erano ancora così numerosi, la città desertificata. Io credo che sia popolata solo durante la serata. Credo che questo tipo di manifestazioni, ma non solo, tutte le manifestazioni di questo livello non possano essere fine a se stesse, ma debbano servire anche comunque a creare indotto, introito e a creare comunque un valore aggiunto alla città. Se tutte queste situazioni che ho appena citato non vengono considerate, non vengono trattate con la giusta cautela, si rischia di ottenere l'effetto e posto. Quindi quello che chiedo è anch'io la verifica dei numeri, di quante auto sono state rimosse, quante auto sono state multate, e capire se sono veramente così numerose, se c'è margine per vedere cosa si può fare nei confronti di questi cittadini. Grazie consigliere Caterisano. Terminate la fase della presentazione delle domande, lascio la parola agli assessori per le risposte. Assessore Piazza, prego. Sì, grazie Presidente. Io rispondo per la parte che ho fatto da raccordo per quanto riguarda il raduno degli alpini. Allora, ad oggi il conteggio che mi risulta delle auto rimosse sono 51, potrei forse sbagliarmi di qualche unità ma non di decine. Sono state rimosse delle auto e altre invece sono solo state sanzionate, non a discrezione dell'agente di polizia locale, ma secondo un piano viabilistico concordato in prefettura con tutte le forze dell'ordine. Per cui, ove si reputava più pericoloso, le auto dovevano per forza essere rimosse, in altri casi si sono limitati alla contravvenzione. La cartellonistica è stata apposta in tutte le vie, tant'è che queste rimozioni non sono in un'area specifica, ma sono distribuite nelle varie vie che erano interessate dal divieto di sosta. Oltre alla cartellonistica a muro sono state messe delle paline verticali e sono state posizionate i giorni precedenti e necessari per l'avviso dei cittadini. È stata emanata un'ordinanza ed è stata comunicata, oltre a essere messa sul sito del Comune, comunicata via social. Questa è la comunicazione che è stata data. In più è stato dato un parcheggio sostitutivo alle meridiane che hanno tenuto aperto su richiesta dell'amministrazione comunale per permettere ai residenti che dovevano parcheggiare l'auto regolarmente nelle vie dove non era possibile di poter mettere lì l'auto. Il parcheggio si è rivelato comunque necessario e utile perché moltissimi ne hanno usufruito. Ora, probabilmente qualcosa non ha funzionato. Io non sono un giudice per stabilire questa cosa. So che gli agenti della Polizia Locale hanno fatto quanto dovuto a seguito di quanto previsto dalle diverse ordinanze. Ovviamente è previsto da parte di chi lo ritiene opportuno in qualità di cittadino di accedere al ricorso per il giudice di pace ed è giusto che porti avanti quanto reputa più opportuno. Per quanto riguarda invece la situazione nei rioni, ho fatto già un passaggio con la comandante. Andremo di concerto anche per volontà dell'amministrazione ad aumentare il numero delle telecamere nel corso del 2023 sia per quanto riguarda i rioni sia per quanto riguarda la sostituzione di alcune telecamere obsolete e dunque proseguire in quel lavoro di rinnovamento che stiamo facendo. Il tema delle telecamere è strettamente connesso poi anche al tema della connessione delle telecamere affinché poi le immagini possano arrivare direttamente alla centrale operativa e non essere estrapolate. Per cui anche su questo lavoreremo nel prossimo anno sempre andando ad aumentare il numero di collegamento e soprattutto la potenza e la velocità. Posso tranquillizzare che dalle informazioni che abbiamo non sono gli atti vandalici che si sono visti nelle ultime settimane prima nel rione di La Orca e poi un caso nel rione di Maggianico non sono legati a temi di gang o altro ma pare dalle denunce fatte che sono ancora in corso le indagini ma siano da attribuire ad un soggetto. Le forze dell'ordine stanno facendo l'iter delle indagini e porteranno poi a compimento la cosa. Grazie Assessore Piazza. Lascio ora la parola all'Assessore Zuffi. Buonasera. Per quanto riguarda il tema dell'apertura del Ponte Vecchio stamattina nei due sensi dalle 6 alle 11 di stamattina in entrata le auto passate erano 550. La polizia locale c'è stata sia stamattina che intorno alle 17.30 quindi nelle due ore di punta il traffico nella zona del Ponte Kennedy era il traffico che c'è nell'ora di punta ma era più scorrevole della precedente chiusura. La segnaletica ha funzionato. Questo ovviamente era il primo giorno però non ci sono stati segnali di non comprensione. Probabilmente lentamente quello che ci auguriamo è che chi durante la giornata o entra o esce nella zona che va verso la rotonda di via Digione scelga il Ponte Vecchio alleggerendo il Kennedy. Questo come primo dato del primo giorno. Il piano d'emergenza di cui si parla rispetto ai ponti ha una scala di livello sovracomunale nel senso che noi partecipiamo al tavolo della provincia e come ci eravamo detti quest'idea del poter in caso di emergenza cambiare l'entrata e l'uscita del ponte andrà ad aggiungersi a tutte quelle azioni legate all'eventuale emergenza perché ricordo che quel famoso venerdì del cartellone non c'era la previsione di che cosa poteva succedere se i due sensi di marcia della Statale 36 come allora è successo fossero per obbligo di sicurezza da chiudere. Vedremo nelle prossime settimane come si adatteranno. Il tema più generale invece, io scusate se continuo a ridirlo ma non è una belleità ambientalista anche se io la condivido ma vuol dire che il PGTU approvato non soltanto con la maggioranza ma mi hanno detto da un gran numero della minoranza era già ambientalista perché questa visione non è altro che l'applicazione del nostro PGTU non abbiamo cambiato niente, neanche le fasce orarie e anche la visione della pedonalizzazione del ponte che è una scelta che saremo chiamati a fare scusate ma quando ci saranno le rotatorie cioè quando ci sarà una controlla e una possibilità di convogliare i flussi anche quella è scritta nel PGTU e onestamente siccome i disagi che i cittadini soprattutto che abitano nella zona del Ponte Kennedy in questo passaggio tutti i giorni passavo la mattina in realtà non si può poi liberi di fare le proposte che volete ma non sono due interventi sganciati cioè il poter entrare e uscire dal Ponte Vecchio deve poter permettere la rotazione delle automobili quindi non abbiamo cambiato i sensi unici nell'area del Ponte Kennedy per provare una modalità di viabilità diversa e l'entrata e quindi i semafori verdi con i tempi più lunghi in realtà dato sempre il traffico dell'ora di punta permettono una fluidità che è quello che cerchiamo di fare maggiore io credo che anche qui ci si debba dare ai cittadini a noi per primi l'adattamento a queste novità che restano monche in questo io condivido quello che dice il consigliere Zamperini che restano temporalmente monche perché dobbiamo andare a costruire almeno diciamo la rotatoria dietro al teatro per intenderci che è quella che permetterebbe quella fluidità maggiore che in questo momento manca ma queste siccome sono proprio le attuazioni del PCTU sono le azioni che andremo a fare con i tempi che ci vorranno e con l'incrocio con i cantieri del tela di scaldamento perché anche quello è dell'altra cosa che stiamo facendo in sintesi io credo spero di aver risposto tutto perché invece il tema stazione bus in via Balicco allora lì è l'altro grande nodo se credo lo condivida gli studenti che attraversano sulla rotatoria dell'innesto credo che sia insieme a quello che si vede alle meridiane la mattina i due nodi più pericolosi sulla mobilità pedonale allora stiamo semplicemente ragionando quindi un progetto di fattibilità con un'interlocuzione con l'agenzia del TPL per provare a vedere di trasformare in qualche modo la mobilità pedonale degli studenti dell'ora di punta e la vivibilità, la convivenza tra il TPL extraurbano e la poca accessibilità che la piazza della stazione ha è davvero tutto in costruzione perché stiamo cercando di trovare allargare la stazione come nodo di interscambio vuol dire aumentare il raggio di spazio che decidiamo essere una stazione di interscambio ma non possiamo pensare che il TPL vada da un'altra parte perché allora non sarebbe più uno scambio gomma-ferro ma sarebbe uno spagno gomma-gomma useremo la commissione quinta cioè in commissione quinta quando avremo in mano qualche dato qualche progetto di fattibilità che abbiamo affidato proveremo a ragionare se è una strada percorribile credo di avere grazie Assessore Zuffi Assessore Cattaneo prego buonasera per quanto riguarda il tema dell'ostello sto verificando con la Presidente Sanseverino la possibilità della visita diciamo entro la metà di novembre visto che c'era un calendario già fitto di altri appuntamenti la faremo al di fuori della data della commissione per non andare troppo in là e proporrei appunto una data ad oggi stiamo verificando l'11 di novembre che è un venerdì devo avere conferma dal gestore se ci sono sovrapposizioni con altri loro impegni per quanto riguarda invece il DEOR confermo che è stata avanzata una proposta l'iter di verifica della loro documentazione non è ancora completato perché era mancante in una parte gli è stato chiesto di integrarla avevano tempo credo fino a questa settimana metà di questa settimana per cui poi gli uffici diranno se è completa e corrisponde ai requisiti grazie grazie assessore Cattaneo lascio la parola ora al signor sindaco prego a me resta l'ordinanza con il divieto di somministrare il cibo che come sapete è stata poi riformulata in una seconda versione perché la prima era oggettivamente imprecisa con il divieto di abbandonare il cibo e questo per un motivo molto semplice che nella prima versione benché il titolo era foroviante si riferiva sia alla fauna selvatica sia ai randagi il dispositivo dell'ordinanza per quanto riguarda i randagi citava norme regionali sanitarie e regolamenti comunali che di fatto esonerava l'applicazione della medesima ordinanza a quel tipo di animale viceversa includeva tutta la fauna selvatica che come sapete di suo non può essere destinataria di alcun tipo di alimento viceversa nella seconda formulazione che quindi si è resa necessaria e che peraltro ha posto anche un termine ad oggi per la scadenza di quell'ordinanza è stata circoscritta sia nel tempo relativamente appunto alle quattro settimane e alla fauna selvatica in particolar modo come veniva correttamente citato dal Consigliere Betteca ai roditori anche perché abbiamo assistito ahimè ad un intensificarsi di colonie sul lungolago complici anche al basso livello del lago e considerato anche che in queste settimane ci sarebbero stati degli eventi che portavano un grande numero di persone e come avete visto anche nel fine settimana possibilità di somministrazione di generi alimentari proprio sul lungolago c'era un rischio obiettivo dal punto di vista igienico e sanitario il comune di suo ha una programmazione costante di piani di deratizzazione ogni cittadino può comunque chiamare per esigenze magari non mappate e si garantisce sempre l'intervento al massimo entro le 48 ore dalla segnalazione grazie grazie signor sindaco lascio ora la parola ai proponenti delle domande per le eventuali repliche consigliere Minuzzo prego grazie presidente ma io credo buona la parte di risposta dell'assessore piazza dove dice probabilmente qualcosa non ha funzionato perché comunque 51 auto rimosse e vorrei sapere quante sanzioni sono state erogate evidenziano che qualcosa evidentemente non ha funzionato altrimenti parleremo di numeri molto più risibili per quanto riguarda le telecamere però è una saga che sta diventando lunga cioè la questione della connessione di sostituzioni con le vecchie l'ultimo episodio di La Orca è avvenuto vicino a una telecamera però non ci sono immagini relative all'episodio non so se non funzionasse non riprendeva l'angolo piuttosto che però anche questo credo che sia un tema che oramai difficilmente diventa derogabile per quanto riguarda il ponte invece sulla risposta dell'assessore Zuffi la ringrazio i numeri magari aumenteranno quando sarà chiaro i cittadini io credo anche nella pericolosità di un esperimento come questo visto anche gli incidenti tra contromano eccetera eccetera dell'ultimo periodo quindi speriamo in bene sotto questo l'ultima cosa chiudo lapidario sul BGTU è vero che è stato votato non solo dalla maggioranza ma erano stati fatti allora degli interventi e delle promesse di adeguamento in funzione anche dei cambiamenti che sarebbero dovuti avvenire grazie grazie consigliere Minuzzo consigliere Zamperini grazie presidente io ho apprezzato la risposta dell'assessore Piazza sono certo che porterete avanti un piano per la videosorveglianza non ho capito se della mia proposta invece sulla che succede stasera che continuano a cadere cose ci sono degli strani rumori se la percorrenza a piedi vabbè comunque lo freneremo in un secondo momento assessore Zuffi grazie per la risposta io vedo che lei ce la mette tutta e sono contento perché vuol dire che lei visiona guarda non so la mattina alle sette e mezza a me chiamano i cittadini che sono sul pullman dicendo che i pullman si bloccano sono in ritardo però se i primi giorni di sperimentazione perché non è il primo il primo è stato venerdì stanno andando bene e noi ne prendiamo atto io però le ho fatto una domanda a cui lei non ha dato una risposta le chiedo lapidariamente sì oppure no lei si sente di escludere che Alecco potrebbe essere instaurata un qualcosa di simile all'area B che c'è a Milano dove le auto per entrare pagano un balzello grazie consigliere non è un dibattito sì o no non può non se la sente di escludere questa cosa questa cosa mi lascia profondamente insoddisfatto assessore perché io so che lei è onesta intellettualmente allora prendetevi la responsabilità di dire chiaramente cosa volete fare perché io temo che questa cosa sotto sotto ci sia se invece non c'è per favore risponda perché devi dire sì oppure no consigliere Zamperini ha esaurito ha esaurito il tempo a lei concesso le risponderà in un secondo momento visto che questa è la fase di esprimere la soddisfazione o meno ma non di porre altre domande consigliere Brigatti prego sì ringrazio gli assessori per le risposte l'unica cosa riguardo la famosa stazione sì non discuto sul discorso dell'opportunità o meno quello è una valutazione io ho fatto per una domanda un po' precisa se eravate a conoscenza di questo discorso della convenzione in essere tra il broletto il comune per quest'area che è praticamente privata e quindi renderebbe inutilizzabile l'area e quindi volevo avere solo questa risposta perché è evidente che se c'è questa convenzione probabilmente lo studio doveva essere fatto in maniera diversa perché è inutile farlo se l'area è privata basta quindi non sono soddisfatto per questo ma solo perché manca un pezzo della risposta grazie grazie consigliere Brigatti consigliere Parolari prego ho sentito la risposta i numeri sono un tantino elevati per cui diciamo che qualcosa non ha funzionato ritengo le procedure sono procedure per cui è chiaro che l'amministrazione debba sempre muoversi nel solco delle procedure ma ritengo che bisogna un attimino prendere un po' di tempo e vedere cosa effettivamente è successo perché credo che nessuno abbia la volontà di trovarsi in queste condizioni quindi dobbiamo questo è un po' il nostro lavoro mettiamo delle regole le regole vanno fatte rispettare ma bisogna anche capire perché delle volte non hanno funzionato tutto qui quindi esorto il vice sindaco a vedere di capire bene cosa si può fare grazie consigliere Parolari non ci sono altri consiglieri per cui chiudo il punto 2 all'ordine del giorno prima di passare al punto 3 all'ordine del giorno comunico gli scrutatori della serata che sono il consigliere Zamperini il consigliere Rossi e la consigliera Paola Tavola comunico altresì la variazione comunico eh consigliere Rossi ogni tanto prego questo onore eh soprattutto una soddisfazione comunico altresì la variazione di punti all'ordine del giorno dopo il punto 3 all'ordine del giorno verrà trattato il punto 5 e il punto 6 con conseguente spostamento del punto 4 quindi la variazione di bilancio dopo i due debiti fuori dopo il riconoscimento dei due debiti fuori bilancio se nessuno si oppone alla questione chiaramente altrimenti dobbiamo metterlo in votazione siete tutti d'accordo? tutti d'accordo nessuno si è espresso per cui passiamo al punto 3 all'ordine del giorno la ratifica della deliberazione di variazione di bilancio di previsione 2022 2023 2024 adottata d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale ex articolo 175,4 decreto legislativo 267 del 2000 delibera di giunta comunale 286 dal 610 22 lascio la parola all'assessore Pietro Belli per l'illustrazione prego assessore è una variazione adottata in via d'urgenza dalla giunta per permettere il finanziamento dell'intervento per minori sottoposti da autorità giudiziarie per nuovi arrivi per cui serviva mettere a disposizione 80.000 euro per questo tipo di intervento così come i 36.000 euro per il servizio pasti anziani e i 3.200 euro per il vestiario della protezione civile il tutto c'è questo spese sono state finanziate attraverso un'entrata di rimborsi diversi da gestione associata quindi l'entrata è pari alle poste d'uscita che ho appena accennato l'urgenza era quella che ho detto prima e cioè l'aumento di minori sottoposti ad autorità giudiziaria grazie grazie assessore Pietrobelli chiusa la fase della presentazione apro quella del dibattito non ci sono consiglieri iscritti a parlare per cui chiudo la fase del dibattito dovrei aprire la fase delle repliche ma penso che chiaramente queste non ci siano per cui passerei direttamente alla fase delle dichiarazioni di voto non vedo consiglieri iscritti a parlare per cui chiudo la fase delle dichiarazioni di voto e apro la fase della votazione secondo solo che torna segretario come al solito scusate non lo so come al solito voteremo sia per la votazione per l'approvazione o meno della delibera e per l'immediata eseguibilità quindi bisogna esprimere la doppia votazione prego segretario sindaco favorevole entrambi regazzoni favorevole entrambi tagliaferri non c'è paola tavola favorevole entrambi sanseverino favorevole ad entrambi roberto nigrillo favorevole ad entrambi chiede consiglieri in aula per favore di non parlare perché altrimenti non si capisce nulla grazie prego proseguo campione assente fusi assente paindelli favorevole ad entrambi pattarini favorevole ad entrambi chiara frigerio favorevole ad entrambi matteo ripamonti favorevole ad entrambi luca visconti favorevole ad entrambi sauro sangalli favorevole ad entrambi paola frigerio favorevole ad entrambi stefania valsecchi favorevole ad entrambi daniele brasiotto favorevole ad entrambi alberto anghileri favorevole ad entrambi Lorenzo Vassena Favorevole a entrambi Alessio Dossi Favorevole a entrambi Paolo Galli Favorevole ad entrambi Corrado Valsecchi assente Giuseppe Ciresa Contrario ad entrambi Emilio Minuzzo Contrario ad entrambi Giovan Battista Caravia Contrario ad entrambi Simone Brigatti Contrario ad entrambi Antonio Russi Contrario ad entrambi Filippo Buscagli Contrario ad entrambi Cinzia Bettega Contrario ad entrambi Andrea Curti Contrario ad entrambi Stefano Parolari Contrario ad entrambi Giacomo Zamperini Contrario ad entrambi Marco Caterisano Contrario ad entrambi 18 favorevoli e 11 contrari Con 18 voti a favore e 11 contro Il provvedimento approvato ed immediatamente esecutivo Passiamo ora Scusate Passiamo ora al nuovo punto Così come da me precedentemente comunicatovi Al nuovo punto numero 4 Il riconoscimento del debito fuori bilancio Dovuto a sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Lecco 183 2021 Chiedo Ai consiglieri Se è possibile O se hanno qualcosa da In contrario Che l'assessore presenti entrambi i debiti Fuori bilancio in un'unica discussione Quindi Si fa una discussione unica Chiaramente con votazione separata Se nessuno ha nulla da opporre Procederemo in tal senso Consigliere Minuzzo prego Solo una domanda Unificando i punti aumentiamo il tempo degli interventi in caso di necessità In caso di necessità In caso di necessità Chiedo solo per forma In caso di necessità Sì Naturalmente per noi va bene Perfetto È solo per la discussione Chiaramente per la presentazione Quindi lascio la parola All'assessore Pietro Belli Anche per illustrare Unitamente al punto di cui Ho informato prima Il riconoscimento Ex articolo 194,1 lettera E Del decreto legislativo 267 del 2000 Della legittimità del debito fuori bilancio Affidamento di servizio esecutivi diversi Prego Assessore Puoi illustrare i due debiti fuori bilancio Grazie Presidente Allora Il debito fuori bilancio consiste In un'obbligazione Che è maturata Senza che sia stato adottato Il dovuto Adempimento Per l'assunzione Dell'impegno di spesa In altre parole Vuol dire che Si è assunto un impegno Senza Averlo inserito Nel bilancio Di previsione Però Ci viene in soccorso L'articolo 194 Del testo unico Che stabilisce Che Con deliberazione comunale Si possa riconoscere Legittimità Dei debiti fuori bilancio Se derivanti Da alcune Voci La prima è Derivanti da Sentenze esecutive La seconda è Da coperture Di disavanzi Dei consorsi Da ricapitalizzazioni Di società Di capitali costituite Per l'esercizio Di servizi pubblici Locali Da procedure Espropriative Di occupazione Ed urgenza Per opere Di pubblica utilità E Quinto Ultimo punto Per acquisizione Di beni e servizi Il primo debito Fuori bilancio Riguarda Per l'appunto Una sentenza Esecutiva Del tribunale Di Lecco Che obbliga Il comune A riconoscere Ad un dipendente Il pagamento Di 870 euro Virgola 54 Comprensivo Di interessi A titolo Di risarcimento Per aver concesso Due giornate Mensili Di permesso Ex legge 104 Anziché Tre giornate Richieste E questo è Il primo debito Fuori bilancio Di 870 euro Virgola 54 Il secondo debito Fuori bilancio Riguarda invece L'acquisizione Di beni e servizi Per 109 mila E 900 euro E secondo L'articolo 194 Che ho prima citato In particolare La lettera E I presupposti Per il riconoscimento Della legittimità Del debito Fuori bilancio Per l'acquisizione Di beni e servizi Sono quelli Di dover dimostrare L'utilità Dei servizi Affidati Nonché Il conseguente Arricchimento Dell'ente E in questo caso Come illustrato Nella relazione Legata Del dirigente Del servizio Economato L'affidamento Dei servizi Esecutivi Alla cooperativa A due mani Soddisfa Entrambi i criteri Sia per l'utilità Del servizio Svolto Sia per il prezioso Risvolto sociale Di questo Affidamento Mi corre però L'obbligo Di informarvi Che non si tratta Di spese Aggiuntive Riconosciute Alla cooperativa Due mani In aggiunta Ma sono spese Normalmente svolte Che a causa Della scadenza Contrattuale Del servizio In concomitanza Con la procedura Di gara Del progetto Di co-progettazione Avviato In collaborazione Con l'Anci Ha indotto Il dirigente Del servizio Come poi Esposto In relazione A stanziare A bilancio Una cifra Inferiore A quanto Previsto Per tutto l'anno E procedere Di volta In volta Con successive Variazioni Di bilancio La variazione Relativa Ai servizi Svolti Da luglio A settembre Per ragioni Di bilancio Non ha trovato Copertura E quindi Si è creato Il debito Di cui Ho detto E ovviamente Volontà Di comunque Corrispondere A cooperativa Due mani Il servizio Che normalmente Ha svolto Grazie Grazie Assessore Pietrobelli Chiusa la fase Delle illustrazioni Delle delibere Apro quella Del dibattito Chiedo ai consiglieri Se intendono Intervenire Consigliere Filippo Boscagli Prego Sì grazie Io rinnovo Quanto sostenuto All'interno Della commissione Che abbiamo fatto Settimana scorsa Non tanto Nel merito Della prima Variazione Di bilancio Del debito Fuori bilancio Quanto Quello Relativo Alla cooperativa Due mani Che ovviamente È un riconoscimento Sacro santo Dell'attività Che è stata Svolta Per cui Sarebbe anche Difficile Contestare Un'attività Che da un lato È un'attività Necessaria È un'attività Fondamentale Per la città E dall'altro Viene svolta Regolarmente Per cui Sarebbe una mancanza Di servizio Non approvare Non aver Provveduto Ad avere Quei servizi Come sarebbe Piuttosto contestabile Non riconoscere Nella cifra Che venga Erogata Quello Che ho contestato All'interno Della commissione Era il fatto Di aver appreso Che questa dinamica Di Progresso Continuo Di questo Del contratto Causa La mancanza Di conclusione Della gara Di cui Citata Dall'assessore Relativa al servizio Di coprogettazione Con l'Anci Credo Che E qua mi rivolgo All'assessore Manzoni Sarebbe stato Anche interessante Affrontare Un tema Che nel contenuto Un tema Che riguarda I servizi sociali E che riguarda Alcune attività Specifiche Non solo Le pieghe del bilancio Venirne a conoscenza Non all'interno Della commissione bilancio Chiedendo L'approvazione Di un debito Fuori bilancio Che chiaramente È tecnicamente Sostenibile E non dubitavamo Che lei portasse In aula Assessore Petrobelli Dei debiti Fuori bilancio Che non avessero I sacri crismi Per essere approvati Però era auspicabile Averne anche prima Conoscenza E capire Le dinamiche Che si stanno affrontando Su questo tipo di servizio Per cui unitamente Alla richiesta Che ho già portato avanti E su cui ho avuto Riscontro positivo Da parte Della Presidente Della Commissione 3 È in merito Al tema Di affrontare I numeri Della povertà L'ECCO Che credo Che sia una mail Che è arrivata a tutti Perché penso Che fossero tutti Consiglieri In coppia conoscenza Però auspico Che anche Le dinamiche Di gestione Della contrattualistica Interna Ad alcuni servizi Possano essere portati A un dibattito Di merito E non solo Un dibattito Per quanto riguarda Invece L'approvazione Poi del debito Fuori bilancio Per cui Su questo non chiedo Neanche una risposta Attuale Chiedo che Quando si fanno Interventi Su temi di bilancio Ma che hanno Dei contenuti L'assessore Alla partita Possa essere presente Per poi entrare Anche nel merito Di determinate scelte Che in questo caso Come ha detto L'assessore Aspettavano Come ha detto Assessore In commissione Aspettavano Precipuamente All'assessorato Al bilancio Ma il contenuto È prettamente Relativo al welfare Per cui Auspico Che questo È il vostro caso Ma che se capitasse Anche per lo sport Istruzione O cultura Gli assessori Di competenza Possono essere presenti Per affrontare Nel merito Il tema Il tema di cui Si sta trattando Grazie Grazie Consigliere Buscagli Non vedo Altri consiglieri Iscritti A parlare Per cui Chiudo la fase Del dibattito Lascio la parola All'assessore Pietrobelli Per eventuali repliche Prego Assessore Se ne ha No Accolgo La sollecitazione Del consigliere Perché in effetti L'iter Seguito È abbastanza Interessante Per cui Era anche Magari Meritorio Di fare una commissione Ad hoc Per cui Si può fare Grazie Assessore Pietrobelli Chiusa la fase Delle repliche Apro quella Delle dichiarazioni Di voto Non essendoci Consiglieri Iscritti A parlare Procediamo Ora Alla votazione Delle singole Delibere Ovviamente Avverrà Con Scusate Avverrà Con votazione Separata Entrambe Le delibere Sono assoggettate All'immediata Eseguibilità Procediamo Ora Alla votazione Del punto 4 All'ordine del giorno Il riconoscimento Del debito Fuori bilancio Dovuto a sentenza Esecutiva Emessa dal tribunale Di Lecco Numero 183 2021 Prego Segretario Sindaco Favorevole Entrambi Regazzoni Favorevole Entrambi Tagliaferri Assente Paola Tavola Favorevole Entrambi Sanseverino Favorevole Entrambi Roberto Nigriello Favorevole Entrambi Vittorio Campione Assente Clara Fusi Assente Nicolò Paindelli Favorevole Entrambi Antonio Battarini Favorevole Entrambi Chiara Frigerio Favorevole Entrambi Matteo Ripamonti Luca Visconti Favorevole Entrambi Saulo Sangalli Favorevole Entrambi Paola Frigerio Favorevole Ad entrambi Stefania Valsecchi Favorevole Entrambi Daniele Braseotto Favorevole Entrambi Alberto Anghileri Favorevole Entrambi Lorenzo Vassena Favorevole Entrambi Alessio Dossi Favorevole Entrambi Paolo Galli Favorevole Entrambi Corrado Valsecchi Assente Giuseppe Contrario alla prima delibera e astenuto la seconda Consigliere stiamo votando solo la prima delibera Stiamo votando una sola, la contrario E poi c'è anche l'immediata eseguibilità Vido scusa, contrario Quindi contrario sia alla delibera che all'immediata eseguibilità Grazie Emilio Minuzzo Contrario Entrambe Giusto? Caravia Contrario a entrambi Simone Brigatti Contrario a entrambi Antonio Russi Contrario a entrambi Filippo Buscagli Contrario a entrambi Cinzia Bettega Assente Andrea Curti Contrario ad entrambi Stefano Parolari Contrario, non è il merito ma perché non bisogna trovarsi in queste situazioni sul punto Contrario Giacomo Zamperini Contrario a entrambi Marco Caterisano Contrario a entrambi Diciotto favorevoli e dieci contrari Con diciotto voti a favore e dieci contro il provvedimento approvato ed immediatamente esecutivo Passiamo ora alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno Il riconoscimento ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 Della legittimità del debito fuori bilancio affidamento di servizi esecutivi diversi Prego segretario Sindaco Favorevole a entrambi Pietro Regazzoni Favorevole a entrambi Tagliaferri assente Paola Tavola Favorevole a entrambi Anna Sanseverino Favorevole ad entrambi Nigriello Favorevole ad entrambi Vittorio Campione assente Clara Fusi assente Nicolò Paindelli Favorevole ad entrambi Antonio Patterini Favorevole ad entrambi Chiara Frigerio Favorevole ad entrambi Matteo Ripamonti Favorevole ad entrambi Luca Visconti Favorevole ad entrambi Saulo Sangalli Favorevole ad entrambi Paola Frigerio Favorevole ad entrambi Stefania Valsecchi Favorevole ad entrambi Daniele Blasiotto Favorevole ad entrambi Alberto Anghileri Favorevole ad entrambi Lorenzo Vassena Lorenzo Vassena Assente Alessio Dossi Favorevole ad entrambi Paolo Galli Favorevole ad entrambi Corrado Valsecchi Assente Giuseppe Ciresa Astenuto ad entrambi Emilio Minuzzo Astenuto ad entrambi Caravia Astenuto ad entrambi Non ho sentito Astenuto ad entrambi Simone Brigatti Astenuto ad entrambi Antonio Rossi Astenuto ad entrambi Filippo Boscagni Astenuto ad entrambi Cinzia Bettega Astenuto ad entrambi Scusi Scusi Astenuto Andrea Corti Astenuto ad entrambi Stefano Parolari Astenuto per carità di patria Giacomo Zamperini Astenuto ad entrambi Marco Caterisano Astenuto ad entrambi Diciassette favorevoli E undici Astenuti Con diciassette Voti a favore E undici Astenuti Il provvedimento è approvato ed immediatamente esecutivo Passiamo ora al punto sei All'ordine del giorno Variazione di bilancio di previsione Variazione di bilancio di previsione 2022-2023-2024 Con contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio Lascio la parola all'assessore Pietro Belli Per l'illustrazione della delibera Grazie presidente Allora in questi ultimi mesi Noi abbiamo svolto una previsione Circa il caro energia E gli uffici hanno valutato le bollette energetiche pervenute E di loro importi E stimato i consumi dell'ente entro la fine di dicembre Entro il 31 dicembre E l'importo del caro energia Che ci serve per pagare le bollette ricevute E quelle che arriveranno E' stato quantificato In 990.000 euro E' evidente che un importo così elevato Di nuovi costi Determina di fatto Uno squilibrio di parte corrente Se poi a tutto questo Aggiungiamo anche la necessità Di ripianare il debito fuori bilancio Discusso al punto precedente E' evidente che non possiamo agire Con una manovra di variazione normale Ma siamo costretti a procedere Ad una nuova ricognizione Degli equilibri di bilancio Applicando appunto l'avanzo di amministrazione Le previsioni di maggior spesa A causa del rincaso energetico Di 990.000 euro Di cui 600.000 euro Per l'illuminazione pubblica E 390.000 euro invece per il riscaldamento Vengono finanziate con avanzo di amministrazione Non vincolato Così come previsto dall'articolo 187 Del decreto legge 267 E quindi così viene fatto Complessivamente l'avanzo utilizzato Per la parte corrente Ammonta a 1.099.000 euro Di cui 990.000 euro per il caro energia E 109.900 euro per quel finanziamento fuori bilancio Che abbiamo approvato prima Il resto della variazione Tranne questa parte sull'energia È rappresentato dalla richiesta degli uffici Per garantire la gestione amministrativa dell'ente Che vengono finanziati attraverso nuove entrate Ed in particolare 379.000 euro di recupero o di evasione 340.000 euro di trasferimenti compensativi dello Stato E 460.000 euro di nuove entrate extratributarie E poi con una corrispondente riduzione previsionale di alcune spese Per quanto riguarda invece il conto capitale Le variazioni riguardano l'altra faccia del problema del caro energia E cioè la richiesta di revisione prezzi Dovuto appunto ai rincari energetici e delle materie prime Una revisione prezzi di circa 500.000 euro Adottata in questa variazione Di cui 388.000 euro solo per la piccola velocità Con questa poi si riesce quindi a presentare il progetto esecutivo Per cui è già la seconda revisione prezzi che stiamo facendo A questo si aggiungono gli interventi di adeguamento del palazzetto del Bione Di 180.000 euro necessari anche per ospitare il nuovo campionato della picco Il resto della manovra del conto capitale riguarda il riposizionamento Del contributo PNRR di 1.222.000 euro per acquisto di bus elettrici Che finanzia il 2022 per 561.000 euro Il resto viene mandato negli esercizi futuri Così come per andare poi a rimpinguare il 2023 e 2024 Assommando a 5.051.000 euro nel 2023 E 687.000 euro nel 2024 Complessivamente noi utilizziamo 799.000 euro di avanza di amministrazione Per finanziare appunto le spese in conto capitale Che aggiunto a quelle di parte corrente Fanno un utilizzo di 1.800.000 euro circa per questa variazione Grazie dell'attenzione Grazie Assessore Chiusa la fase dell'illustrazione Apro la fase del dibattito Consigliere Zamperini prego Grazie Presidente La sottolineatura che mi permetto di fare È che paghiamo un milione di euro in più per il caro bollette Questa è una situazione che ovviamente il comune subisce Ma che subiscono anche tutti i cittadini di questo comune Assieme a Peppino Cereso ho partecipato per esempio a una manifestazione Dei panificatori che erano disperati e sono disperati Perché arrivano al limite di non riuscire più a fare il pane Perché dicono o lo facciamo e lo vendiamo a 10 euro al chilo Oppure non ci conviene più metterci a fare il pane Quindi è una situazione davvero devastante Ora vorrei andare un po' oltre però i numeri del bilancio Nel senso che mi chiedo se questa amministrazione Assessore Pietrobelli ha pensato Come fare a proteggersi da ulteriori rincari Perché la situazione non sta finendo Dal punto di vista dell'emergenza Sappiamo che forse il gas oggi scende Però dobbiamo capire se questo prezzo dei mercati Poi produrrà immediatamente un calo delle bollette Probabilmente no Quindi bisogna capire come fare a tutelare sia il comune Che i cittadini Per quanto riguarda la parte che interessa questa sera Quindi quella del comune Vi chiedo per esempio come ho fatto anche in orgnuno Nell'HP Gruppo Se state valutando delle attività A parte il comunicato stampa che ho visto Del dire aspettiamo una settimana All'accendere riscaldamenti Però ecco forse da questa amministrazione Mi sarei aspettato qualcosa di più Ho visto che c'è un progetto Una proposta per le comunità energetiche Forse un po' tardiva Assessore Azzuffi Però ecco Che cosa sta facendo questa amministrazione Per combattere e contrastare questi rincari Perché un milione di euro quest'anno Una variazione di bilancio Così all'ultimo Siamo riusciti Grazie anche all'abilità dell'assessore Pietro Belli Di farli saltar fuori in qualche modo Ma non è che sono soldi che arrivano gratis Cioè da una parte Devi trovare i soldi per pagare le bollette in più Dall'altra devi tagliare da qualche parte Quindi io Ecco L'ho detto anche in commissione Non mi è chiarissimo Dove sono stati tagliati questi soldi Se sono stati trovati Semplicemente dall'avanzo di bilancio Oppure se Qualche servizio Sì però Assessore anche se fossero stati trovati Dall'avanzo di bilancio Va bene Comunque sono soldi che non possono essere utilizzati Per fare qualcos'altro Quindi è un problema questo Io vi chiedo Cosa state facendo E cosa avete intenzione di fare Per limitare il più possibile Questi rincari Perché davvero Sono le cose Magari Dirette Che ogni cittadino Si trova ad affrontare Però Magari un cittadino Combatte per i 50 euro I 100 euro 200 euro in più Un commerciante Per Qualcosina direi In più Guardo Scherzosamente Ma non troppo Purtroppo Il collega Ciresa E il comune di Lecco Si trova un milione di euro in più E quindi cosa vogliamo fare Ci sono Delle possibilità di risparmio Dal punto di vista energetico Che questa amministrazione Sta portando avanti Delle proposte Ecco Io su questo Sento ancora molto silenzio Secondo me Bisognerebbe fare qualcosa Qualcosa in più Perché Il posticipare di una settimana Il riscaldamento Non è sufficiente Ci sono per esempio Le possibilità di chiedere Deroghe Per quanto riguarda le stufe E i camini Da utilizzare Ecco anche qua Vedete C'è un problema di Opportunità Da una parte Si riaprono le centrali a carbone Dall'altra Si fa ancora Divieto ai cittadini Lecchesi Di utilizzare la legna Per riscaldarsi E' una contraddizione Incredibile Nei termini Non sto dando la colpa Al comune di Lecco E basta Però c'è qualcuno Che sostiene Che in questo momento Qualcuno che sostiene ancora Che in questo momento Si è più importante Evitare Che ci siano emissioni Sopra la norma Di perché bruciando la legna Si inquina di più Rispetto a dare la possibilità A una famiglia Che magari davvero Non ne ha altre Di riscaldarsi Allora dovete fare un'analisi E una valutazione Oltre il fatto che Se permettessimo di andare A prendere la legna Nei boschi Avremmo anche un effetto Di pulizia Nei boschi Che oggi sono abbandonati A loro stessi Basta andare In qualche sentiero Anche sopra A Montalbano Per rendersene conto Ho fatto soltanto Alcuni esempi Non è che ovviamente Pretendo che l'assessore Zuffi E l'assessore Pietrobelli Vadano nei boschi A raccomare della legna Per scaldare Gli edifici del comune Però fare qualcosa Fare qualche proposta Che non sia semplicemente Posticipare Di una settimana Il riscaldamento Secondo me Potevate fare E avreste dovuto fare Comunque paghiamo Tanto paga pantalone Però questi soldi Sono soldi dei cittadini Lecchesi Grazie Grazie Consigliere Zamperini Consigliere Anghileri Prego Sì Approfitto Anch'io di questa discussione 900 mila euro In più Per quest'anno Presumo Che l'anno prossimo Potrebbero essere Speriamo di no Leggevo Proprio adesso Sembrerebbe Che invece Il prezzo Stata di momento Non so Per quanto Non lo so Non sono un esperto Però L'osservazione che faccio È questa Alcune cose Possiamo fare Come comune Molto Alcune cose L'abbiamo già fatta Per le famiglie Soprattutto I ceti più deboli Che ha più bisogno Con dei contributi Che stiamo dando Sono importanti Bisogna fare un passo in più Io lo dico come Ragionamento A voce alta Che vale per me Vale per tutti Noi siamo proprietari Tra virgolette Di alcune aziende Che erogano Erogano questi servizi Si chiamava Acel Adesso si chiama A5 È possibile Pensare A qualche ragionamento Penso Essendo aziende Semi pubbliche In parte Con un'altra Sul mercato Quindi dove è difficile Intervenire Però è possibile Pensare Come amministrazione Qualche intervento Su chi Eroga questi servizi Per dirgli È possibile Frenare un attimo Questi aumenti I costi Io non so Se tecnicamente Possiamo farlo O non possiamo farlo Però come coproprietari Di alcune aziende Potremmo Faccio un esempio Capitato a me Che penso Capitati a molti Io ho la bolletta Con Acel Essere a 5 Sta mandando Acel Come tutte le altre Aziende del settore Distetta di contratto Che non aveva Termini di scadenza Il mio contratto Dicono Siccome le condizioni Non reggono più Ti digitiamo Contatto Perché lo ripeto Come comune In un modo o nell'altro Siccome il riscaldamento Nelle scuole Dobbiamo garantirlo Le risorse vanno trovate Per le famiglie E le aziende È molto più complicato Quindi pensare Lo ripeto Siccome questa non è Colpa del sindaco Della maggioranza O dalla minoranza Subiamo anche noi La speculazione Perché di questo Si tratta Su questo Quindi capire Se tutti assieme Possiamo individuare Delle forme Per far sì Che le famiglie Non si debbano trovare Costrette a scegliere Prima o poi Se riscaldarsi O comprare libri Per i figli Io ho timore Di questa cosa E quindi è bene Cominciare a pensare Poi magari siamo Troppo pessimisti E tra due mesi Si risolve tutto Dubito Abbiamo un nuovo governo Farà cose eccezionali Da questo punto di vista Però nel frattempo Penso che se troviamo Un modo per discutere E affrontare Questa situazione Sarebbe un servizio Utile per i cittadini Che noi amministriamo Grazie Grazie Consigliera Anghileri Consigliera Cinzia Bettega Prego Praticamente è portato A un surplus di spesa Di circa Un milione di euro Noi abbiamo detto 990 Che è psicologicamente Diverso Che dire Un milione di euro Ma purtroppo siamo lì Ecco quindi La botta è notevole Io credo che So che altre amministrazioni Lo fanno Mi è stato risposto Che diminuire L'illuminazione pubblica Potrebbe essere Un problema per la sicurezza Però io chiedo Di rivalutare Insomma Cosa si può fare Su questo Perché in linea generale Qualche Qualche iniziativa Credo che si possa prendere Quanto devono essere illuminate Queste strade In inverno Non so Alle due Alle tre Alle quattro di notte Ma parlo a ruota libera Però dico in generale Io chiedo veramente All'amministrazione Di fare uno sforzo Su questo Su questo Su questo Su questo tema Perché purtroppo Abbiamo messo lì Un milione Però Non possiamo continuare Senza delle riduzioni Senza lasciare al freddo Nessuno Poi Ho letto Un comunicato stampa Dove si invitano A proposito Delle comunità energetiche Rinnovabili Che è un tema Molto Molto diciamo così Sentito E sembra molto interessante Che Si sta aspettando La manifestazione Di interesse Della regione Nel comunicato Quindi volevo chiedere All'assessore A cosa si riferisce Che a me risulta Che ci sia già Questo provvedimento E scadenza Il 31 dicembre Poi vabbè Eh? Sì Ma dico Come si dice Stiamo in attesa Ad ella A me risulta Che invece Comunque È attiva Vabbè Comunque Volevo una precisazione Su questo E poi Per fare un unico Ragionamento Visto che in precedenza Abbiamo parlato Di un aumento Del capitolo Riservato Alle spese Per i minori stranieri Non accompagnati A profitto A profitto Dello spazio Ah vabbè Comunque Allora volevo Una delucidazione Su questi minori Affidati Dall'autorità Giudiziaria Al comune Di Lecco Che ha portato A questo A questo Aumento Del capitolo Previsto Per questa spesa E capire Effettivamente Quanto Costa Inserire In una Comunità Eccetera Eccetera Dedicata A questo tipo Di ospitalità Questi minori Quant'è Oggi A oggi Io ricordo Dei dati Probabilmente Vecchi Non aggiornati Quant'è Oggi Il costo Io so Che comunque Noi siamo Un comune Capoluogo Siamo un comune Grosso So che per i comuni Piccoli Ad esempio È un problema Enorme Perché ovviamente Incide Sui bilanci Però vi colgo L'occasione Di questa discussione Per capire Che tipo Che tipo Di intervento Il comune Deve fare Quanto spende Per ogni minore Non è uno straniero Non accompagnato Sarà un altro minore Sottratto Alla potestà Genitoriale Che deve essere Tutelato Insomma Volevo qualche Informazione Perché sinceramente È un problema Che Personalmente Mi sta a cuore Grazie Grazie Consigliera Bettega Consigliere Luca Visconti Prego Grazie Presidente Allora Ringraziamo L'assessore Pietrobelli Per questa analisi Dittagliata Un'analisi Molto chiara Che purtroppo Lascia poco spazio Alle interpretazioni Come già era successo A fine estate Ci troviamo ad affrontare Una variazione Dove i protagonisti In contrastati Sono i rincari energetici E gli adeguamenti Di costi I numeri Sono davvero importanti Le bollette Passate da 1,4 milione Al 2021 A 3 milioni di euro Nel 2022 Oggi andiamo a votare Una variazione Per la seconda parte Dell'anno Di ben 990 mila euro Suddivisi tra 300 mila euro Di gas E 600 mila Di energia Circa Andremo a votare Un conguaglio Per il bione Di 90 mila euro Solo per i mesi estivi E un adeguamento Dei costi totali Su tutte le opere In essere Che si avvicina Ai 2,8 milioni Di euro In questo momento Abbiamo poco spazio Di manovra Siamo obbligati Ad affrontare Questo aumento Di spesa corrente Con la preoccupazione In avere alcuna certezza Riguardo l'andamento Del mercato energetico Come accennato Da diversi consiglieri Nell'ultima commissione Servirebbe una sfera Di cristallo Per perdire il futuro La speranza È che si trovino Degli accordi europei Nazionali Che limitano i prezzi E portino Alla scorporazione Del prezzo gas E energia La fase Per noi più importante Diventa quindi Quella successiva Dove nei prossimi mesi Dovremo prendere Delle decisioni Importanti Decisioni di tipo tecnico Quindi cosa fare Per abbassare I costi di energia Ci sono diversi punti Di approfondimento Decreti ministeriali Sicuramente a livello nazionale Arriveranno dei contributi Non è una questione Di nuovo o vecchio governo Sono in difficoltà Tutti gli 8.000 comuni italiani E si lavorerà Mi auspico Per una soluzione comune Un esempio positivo Sono i contributi A fondo perduto Per gli impianti sportivi Occasioni importanti Per il bione Vista la situazione attuale Inoltre L'illuminazione a led È già stata È già un miglioramento Rispetto a quella precedente Anche se Non possiamo valutare Orari diversi Visto comunque Che dobbiamo affrontare Un'illuminazione Che è passata Da 900.000 euro A 1,7 milioni di euro Per quest'anno Altre proposte Sono quella Ad esempio Dell'accensione posticipata Di riscaldamenti E inoltre Bisogna spingere Verso il progetto Delle comunità energetiche Un problema evidente Sono anche gli edifici Vecchi ed energivori Il fatto di aver trasferito Alcuni uffici Per motivazioni Evidentemente diverse Rispetto al risparmio energetico Sicurezza e un'utenzione Ha portato A un leggero miglioramento Delle bollette Da bilanciare comunque Con i costi di affitto Da sostenere Altre decisioni importanti Che dobbiamo prendere Sono di tipo politico Una spesa corrente Che cresce Con questa costanza Diventa un problema Reale da affrontare Nel 2022 Un avanzo di bilancio Importante Quasi un tesoretto Ci ha permesso Di contrastare Questi aumenti Ma nel 2023 Si ripresenterà Probabilmente La stessa situazione Il campanello D'allarme Suonato ormai Diversi mesi fa E il nostro compito Era quello di monitorare Al meglio Tutti gli aspetti E tutti gli ambiti Che hanno portato Purtroppo A questa crescita Della spesa corrente In modo da garantire Assolutamente Tutti quei servizi Al cittadino Che sono E devono rimanere Imprescindibili Grazie Grazie Consigliere Visconti Consigliere Dossi Prego Sì grazie Buonasera a tutti Ma allora Io Ho sentito Parlare Di focolari Accesi E Insomma Minestre Che bollono Sul fuoco Cioè Non riesco Veramente a capire Da un lato Noi ci troviamo In una situazione Energeticamente Devastante La risposta Che noi Proviamo a costruire Per rispondere A una problematica Di questo tipo E ritornare Al medioevo Allora Parlo ovviamente A livello governativo Dove tra l'altro Chi A geometria variabile Diciamo Sul territorio Prova di tanto in tanto A lisciare il pelo A qualche associazione Ambientalista Gli deve spiegare Come mai appena va Il governo Toglie Cancella Elimina Fa sparire Il ministero Della transizione ecologica Lo trasforma Nel vecchio e caro Ministero dell'ambiente Quella roba lì Che mettevi Al dodicesimo punto Del programma Perché tanto in qualche modo Dobbiamo farlo E chiusa Morta lì Attenzione Perché ne risponderete Con la storia Di questa cosa Perché io penso Che questa cosa Della transizione ecologica Non sia un problema Politico Un problema scientifico E questa cosa Voi dovete Capirla fino in fondo Soprattutto quando andate Appunto a lisciare il pelo Se volete essere O provare ad essere credibili Chiuso questo Questa riflessione Io penso che Bene abbiamo fatto A stanziare delle risorse Importanti Su una situazione Energetica Energetica Emergenziale E quindi è bene Che ci siano queste risorse Perché la situazione Effettivamente è drammatica Su quanto veniva detto Sull'opportunità Che io condivido Di verificare Se ci sono le condizioni Perché il comune Possa farsi attore Attivo Da questo punto di vista Rispetto a processi Di investimento Sul tema Delle fonti Energetiche Alternative Di cui abbiamo Estremamente bisogno Io penso che Insomma Si stiano già Facendo delle cose Si sta lavorando Sul tema Delle comunità energetiche Che anche qua Sono ben contento Che tutti abbiano scoperto Cosa sono Ne parlavamo da tempo E questa è una soluzione Come dire Veramente iniziale Nel senso che Siamo ad una fase Di costruzione Di quello che è Un tema importante Però È un punto di partenza Importante Se c'è da discutere Da confrontarsi Con le società Partecipate Certamente Questo è un tema Fondamentale Certamente Questo è un tema Fondamentale Perché sarà sempre Comunque Più localizzata La produzione Energetica Invece che centralizzata E quindi Da questo punto di vista Noi dobbiamo Farci soggetto attivo Nella costruzione Di soluzioni alternative E Penso anche Che Visto che Probabilmente Dal governo Non si andrà In questa direzione A maggior ragione I territori Hanno una responsabilità Da questo punto di vista Di costruire In maniera locale Visto che L'energia Sempre più locale Sarà La produzione Di energia Sempre più locale Sarà Avere un ruolo Importante Da questo punto di vista Pertanto Ci sono delle risorse Perché c'è una situazione Per esempio Magari sul comune Che sia in questo momento Messa in stand by Può essere Che si liberino Alcune risorse Ecco Io penso Che un investimento Importante Che noi dobbiamo fare Se ci sono delle risorse È proprio In questa direzione Efficientamento energetico Dei nostri edifici Sviluppo Di soluzioni In dialogo Con le società partecipate Come dicevo prima Che aprano Degli scenari Che impostino Degli scenari Ecco Questo lavoro Che in parte In realtà Si sta già facendo Credo che sia La vera scommessa Secondo me Di una produzione energetica Sempre più localizzata Realizzata Nei territori Nei luoghi E in forma Spesso anche autoprodotta Questa cosa Che Tre anni fa Vessi detta Risultava naive Ambientalista Ecologista Disfattista Oggi Penso che sia chiara Per tutti Non fosse altro Perché Rende evidente Quanto noi siamo Tuttora Perché non abbiamo Fatte queste cose Negli anni passati Dipendenti da qualcun altro In termini energetici E dunque Completamente Soggiogati Da un punto di vista Politico E geopolitico Da situazioni Esterne a noi Rispetto alle quali Noi oggi ci troviamo A ricorrere Al carbone Al fuoco Alla zuppa Ecco Questa cosa Noi dobbiamo renderci conto Che sta dentro Degli errori passati Di cui noi portiamo Cioè Di chi ha preso delle scelte Porta la responsabilità Allora Non ricommettiamo Lo stesso errore Usiamo questa occasione Per guardare al futuro Usiamo questa occasione Per impostare qualcosa Di diverso Ecco Io credo che E dentro questo Ci stia una responsabilità Ci stia una responsabilità Anche del nostro comune E penso che Da questo punto di vista Al netto del fatto Che dobbiamo stanziare Delle risorse Per tamponare Utilizzarne altre In futuro Per rafforzare Processi virtuosi Sul territorio Da questo punto di vista Sia assolutamente necessario Grazie Grazie Consigliere Dossi Consigliere Parolari Prego Dopo questa lezione Di filosofia Castro ambientalista Fidel Castro Aveva la sanità migliore Però aveva anche I morti di fame Bastava sostenere Che la fame Non era una malattia Ma era colpa Degli Stati Uniti Questa è la filosofia Di questo intervento Però detto questo Io credo che Per fortuna Forse si sta Sgonfiando La bolla Olandese Tedesca Dei prezzi Non russa La speculazione È Norvegia Olanda Germania Europa Del nord Si sa Da qualche anno Da qualche mese Poi hanno insegnato A Putin A manipolare Il mercato Come uno Che gli mette La bomba atomica In mano Perché noi Siamo intelligenti Detto questo Credo che sia necessario Visto le risorse Che andiamo a mettere Assessore Noi abbiamo iniziato Il mese d'ottobre Con il gas A 165 euro Megawattora Lo chiudiamo Oggi Con il gas A 27 euro Megawattora Con punte Anche inferiori Al suo valore Reale C'è un valore Di mercato Delle cose E un valore Delle cose Il valore Delle cose Di solito Non è il valore Di mercato Anche se non sono Comunista Queste cose Le capisco Quindi Uno Vorrei capire Che tipi di contratti Sono stati fatti Perché fino Adesso Avevamo Come mi diceva Il funzionario Sull'energia elettrica Un prezzo fisso E quindi Vorrei capire Che tipi di contratti Abbiamo fatto Perché per esempio Sulla partitura F3 Che è quella Della notte In questi giorni Siamo In questi ultimi Ultimo mese Siamo molto Scesi Nelle cota Siamo sui 100 euro Megawattora Il mercato normale 50 euro Megawattora Per cui Non siamo Sei volte Tanto Per fortuna Per cui Anche i panificatori Che di solito Lavorano di notte Potranno averne Dei benefici Credo Che dobbiamo Gestire Questa situazione Giorno per giorno Per il semplice E si possono Fare gli indici Per quello che chiedo I contratti E i tipi E non è per Per curiosità Di trasparenza Ma per curiosità Tecnica Perché Il livello Di Intossicazione Dei mercati È molto elevato Con Sbalzi Di quotazioni Che possono portare A un milione di euro Ma non vorrei Trovarmi Al 31 dicembre Vorrei trovarmi Magari avendo Avendo una spesa Solo 400 mila Di questo milione Di euro Può avere Incagliati 600 mila euro Nel prossimo Avanzo Di amministrazione Per cui Credo che qua Ci voglia Una gestione Momento Momento Noi possiamo Arrivare Certamente A capire Ottobre A capire Novembre Quanto spendiamo Si prevedono Queste cose E poi Arrivare Per Natale A capire Quando spenderemo Su dicembre Perché L'autorità Adesso ha scelto Come indice Il PSV Che è il punto Di scambio virtuale Che significa L'indice di mercato Fate Conto Che tutta Questa Cosa Poco Ha a che fare Con i discorsi Dossiani Non di Dossetti Ma di Dossi Ma Che tutto Questa Cosa Il mercato Che si muove E su quello Che vi chiamano Il TTF Che è il mercato Olandese E meno Del 8-9% Del mercato Europeo Gran parte Del gas Entra Ve lo ha detto Ve lo diranno Lo dice la comunità Europea Negli Stati Soprattutto Quello russo Ha prezzi Di 20-30 centesimi Massimo A metro Cucco Quindi è Un bel imbroglio Ai danni Di tutti i cittadini Sia come Amministrati Dei comuni Che come cittadini Improprio Quindi chiedo Che venga fatta Questa cosa Sono disponibile Nei miei limiti Di tempo Anche a dare Una mano In questo tipo Di analisi Sulla questione Che ha sollevato Anghileri Chiedo al sindaco Di sentire Come noi Di ACSM Aga Mi sa Esprimiamo Il vicepresidente E sono sicuro Perché altri cittadini Come si sono rivolti Anghileri Sono rivolti a me Che sono arrivate Delle lettere Non di rescissione Del contratto Ma di variazione Unilaterale Delle condizioni Contrattuali Variazione unilaterale Impedita Dalla Rera In cui è stato Ammesso sotto Indagine Anche qualche società Di nostra conoscenza Non a cinque Ma a capogruppo Scusi eh Di cercare Di capire Come comportarsi In questa situazione Che non è bene Che una società Che ha molti clienti Sul nostro territorio E già da sola Ne ha persi moltissimi Lo sa Utilizzi Questi sistemi Quando loro Hanno voluto fare Contratti A prezzo fisso Se uno Va a giocare A poker E perde Non è che deve Pagare quello che vince E sta logica Non va bene Per cui Siccome la legge Dice che fino al 31 marzo Le variazioni Di contratto Le rescissioni Non sono Eseguibili Da parte Delle società Almeno A tenersi La legge E non cercare Delle scappatoie Grazie Grazie a lei Consigliere Parolari Non ci sono altri Iscritti A parlare Per cui Chiudo la fase Del dibattito Lascio la parola All'assessore Petrovelli Per eventuali repliche Grazie Presidente Allora Guardate Io rispetto Alla questione Energetica Sono preoccupato Perché parto Da un dato Certo Che abbiamo Dei palazzi Energivori Per cui Che consumano Tanta energia So anche Se vogliamo Se vogliamo fare Dei discorsi Seri So che Gli interventi Non possono essere Immediati Ma Casomai In prospettiva Non Sono contrario Per carattere Cultura Interventi Spot Sapete Quanto Costa Per cui Bisogna avere Anche dei capitali E intrecciare E intrecciare Anche tutti I benefici Che ci possono essere Noi ovviamente Li abbiamo Li abbiamo Esperiti Stiamo Cercando Di Intercettarli Tutti Ma anche se Li intercettiamo Occorre ovviamente Una procedura Di investimenti Che conta Anni E poi si avranno I benefici Però Sono tutti soldi Ovviamente Spesi molto bene Però Non avranno Un effetto Un effetto Immediato Gli effetto Quello che Possiamo fare Certamente Tutto quanto Dispone Il decreto legge Rispetto ai ritardi Di accensione Anticipazione Di spegnimento Tutte queste cose qui Il Per fortuna L'illuminazione pubblica È già Stata quasi Ha sostituito Tutte le luci Con luci led Per cui hanno Un consumo Più basso Ci sono Ecco poi L'altra cosa Che in questo periodo Sta nascendo Ci sono Un sacco di proposte Di società Che arrivano A proporti Risparmio Energetico E io ho detto Ragazzi Attenzione Guardiamoci dentro Bene Perché tutti questi Qui che si Inventano Quindi Bisogna capire Quali sono Gli investimenti Che devi fare Se costa di più No Il tipo Il tipo di Proposta Che poi L'effetto Determinato Dal Risparmio Energetico Ovviamente Noi siamo Tra i promotori Delle comunità Energetiche E anche Questo però È una questione Di Di impostazione Come si può dire Di educazione Nella gestione Delle comunità Energetiche Però appunto Anche questo Non avrà effetti Immediati Quindi Non avendo effetti Immediati In previsione Del bilancio Del 2023 E in effetti Qualche problema Ce lo abbiamo Per fortuna Come diceva Prima Il consigliere Visconti Il Non certo Per merito Nostro Perché in effetti Non abbiamo Non abbiamo fatto Quegli spostamenti Per questa ragione Ma l'abbiamo fatto Per la sicurezza Dei lavoratori Però gli spostamenti Di via Sassi Ci consentono Nel 2023 Di avere Un forte risparmio Energetico Intorno ai 100.000 euro Per cui Non è Poca cosa Quindi Altre Altre questioni Non so Che Che tipo Di Interventi Fare Ma Noi faremo Tutti Quegli interventi Che dicevo Prima Che abbiano Un carattere Strutturale Di previsione Anche nel futuro Di una riduzione Complessiva Dell'energia Indipendentemente Da questo momento Come diceva Parolari Di Speculazione Del mercato E quindi Di questo Rincaro Energetico Al di là di questo Noi volevamo Già fare Interventi Di riduzione Energivora Delle nostre Strutture Patrimoniali E sarà Alla nostra Attenzione Il più Presto Possibile Con I soldi Che abbiamo Disposizione E gli aiuti Necessari Riusciremo A fare Assessore Chiusa La fase Delle Repliche Apro La fase Delle Dichiarazioni Di voto Non ci sono Consiglieri Iscritti A parlare Consigliere Minuzzo Prego Grazie Presidente Stavo Pensando Adesso Chissà Quanto avremmo Risparmiato Se avessimo Unificato Tutti gli uffici Nella nuova sede In termini di Efficienza E di ben alto Io credo Che la riflessione Invece Che si apre Rispetto ai numeri Che sono stati Presentati E che rispetto Al passato L'avanzo È finito E Non abbiamo Opere significative Da presentare O altro E quindi Questo Apre Un grosso Interrogativo Per quanto riguarda Invece Degli interventi Che ho sentito Prima Volendo In alcuni casi Qualche risorsa Ci sarebbe Bisogna però Anche essere capace Di reperirla Di prenderla E di vincere Aspettiamo Un nuovo comune Per l'ufficio Bandi Nel suo complesso E nella sua complessità Per cercare Magari Di reperire qualcosa Come per tutti i provvedimenti Di natura finanziaria Non solo sarà Contrario Grazie Grazie Consigliere Minuzzo Non ci sono altri Consiglieri scritti A parlare Per cui Chiudo la fase Delle dichiarazioni Di voto E apro La fase Della votazione Anche in questo caso Voteremo Sia per l'approvazione O meno Della delibera E dell'immediata Eseguibilità Prego Segretario Sindaco Favorevole a entrambi Regazzoni Favorevole a entrambi Tagliaferri assente Tavola Favorevole a entrambi Sanseverino Favorevole ad entrambi Nigriello Favorevole ad entrambi Vittorio Campione assente Fusi assente Niccolò Paindelli Favorevole ad entrambi Antonio Battarini Favorevole ad entrambi Chiara Frigerio Favorevole ad entrambi Matteo Ripamonti Favorevole a entrambi Luca Visconti Favorevole a entrambi Sauro Sangalli Favorevole a entrambi Paola Frigerio Favorevole ad entrambi Stefania Valsecchi Favorevole a entrambi Daniele Braseotto Favorevole a entrambi Alberto Anghileri Favorevole a entrambi Lorenzo Vassena Favorevole ad entrambi Alessio Dossi Favorevole a entrambi Paolo Galli Favorevole a entrambi Corrado Valsecchi assente Giuseppe Ciresa Contrario a entrambi Emilio Minuzzo Contrario a entrambi Caravia Contrario a entrambi Simone Brigatti Contrario a entrambi Antonio Rossi Contrario a entrambi Filippo Boscagni Contrario a entrambi Cinzia Bettega Contrario a entrambi Andrea Curti Contrario ad entrambi Stefano Parolari Contrario ad entrambi Giacomo Zamperini Contrario ad entrambi Marco Caterisano Contrario a entrambi 18 favorevoli E 11 contrari Anche per l'immediata eseguibilità Con 18 voti a favore E 11 contro Provvedimento approvato Ed immediatamente esecutivo Passiamo ora al punto 7 All'ordine del giorno Regolamento sui controlli interni Lascio la parola al signor Sindaco Per l'illustrazione della delibera Prego signor Sindaco Buonasera Faccio una breve introduzione E poi alcune slide Stando ben sotto i 10 minuti Si tratta sostanzialmente Della revisione Di un regolamento interno Che apparentemente Sembra parlare di burocrazia pura In realtà mette in fila Alcuni processi In modo da rendere Effettivamente efficaci Tutti i sistemi di controllo In essere nel comune di Lecco Sistemi di controllo Che sono un dovere Per l'amministrazione Farli Quindi non è un qualcosa in più Ma tutti gli atti Sia quando vengono prodotti Dall'amministrazione Sia quando vengono Inoltrati dai cittadini Ad esempio sotto forma di autocertificazione Devono essere controllati Altrimenti quello che si produce Sono atti irregolari Con tutte le conseguenze del caso Il sistema dei controlli Riguarda diversi soggetti Il segretario generale L'area finanziaria I dirigenti I revisori dei conti Il nucleo di valutazione E riguardano sostanzialmente Sette fatti specie Il controllo di regolarità Amministrativa e contabile Il controllo sugli equilibri Economico finanziari Quello sul controllo di gestione Controllo strategico Il controllo sugli organismi Gestionali esterni Le partecipate Il controllo sulla qualità Dei servizi erogati E infine Il controllo sull'attuazione Delle misure di contrasto Alla corruzione E allo sviluppo della trasparenza Come vedete Spesso è facile intuire Che tutti questi ambiti Sono molto intrecciati L'uno nell'altro Pertanto la prospettiva Con cui si è reimpostato Il sistema dei controlli di gestione E soprattutto il processo Dei controlli interni Ha seguito Alcune filosofie Che mi preme Illustrarvi E non già Gli articoli singoli E dispositivi Perché quelli sarebbero Evidentemente Abbastanza Abbastanza Tecnici Innanzitutto Il concetto principale È Passare Dal controllo A posteriori Degli atti Già avvenuti Al controllo Concomitante Cioè Meccanismo di controllo Che avviene Mentre si producono Gli atti Attualmente L'attuale Stato dei controlli interni Riguarda Ovviamente La qualità Di redazione Degli atti La conformità Agli schemi Ministeriali O agli schemi Comunali E i termini Cioè le scadenze Dei procedimenti Questo sistema Di controllo Attuale Attiva Processi Di autoapprendimento Cioè noi sappiamo Se Gli atti prodotti Sono meno conformi Mediante analisi A posteriori Quindi a campione Vengono Sondati Gli atti Prodotti Nel semestre Precedente Da parte Nucleo di valutazione E poi ci dicono Sì Questo era conforme Questo non lo era Però intanto L'atto è stato fatto Alcuni magari Hanno adottato Anche delle Misure Conseguenti A quell'atto Che poi Difficilmente Diventano Reversibili E di conseguenza Anche la misura Di controllo Benché Burocraticamente Attuata Diventa inefficace Ai fini Della verità Dell'atto medesimo Pertanto La proposta E quindi L'intreccio Delle normative Che andiamo A regolamentare Propone Il controllo Concomitante Cioè che Mentre si costruisce L'atto Mentre si compone L'atto Che è complesso Perché ha una parte Tecnica Dispositiva Una parte giuridica E una parte economica Ecco Mentre l'atto si produce Avvengano Questi tipi di controllo E come è possibile Che ciò avvenga Sostanzialmente Attraverso La condivisione Di alcuni dati Che vengono Integrati Ad esempio Le banca dati La lista Dei fornitori La rotazione Degli appalti Il controllo Sui costi E ancora Il controllo Su autocertificazione E conflitti Di interessi Vengono E verrebbero Fatti Se approviamo Il regolamento Questa sera In maniera Concomitante E man mano Che l'atto Viene prodotto Dagli uffici Ugualmente Il controllo Sugli enti Controllati Scusate il gioco Di parole E partecipati Benché ovviamente Avviene Secondo la prassia Secondo tutti I meccanismi Di controllo Analogo Può essere Rafforzato Soprattutto Per gli effetti Finanziari Cioè Le eventuali Spese Di amministrazione Le spese Per il personale E in generale Anche per le Ripercussioni A breve e medio termine Che gli atti Adottati Da quelle Controllate O partecipate Possono riverberare Su noi Che siamo Il controllante L'ultimo Elemento Di concetto Che mi piace E opportuno Condividere Riguarda invece Il controllo Finanziario Di gestione Traduco Il solito DUP Il PEG E le conformità Che i vari Organismi di controllo Devono Attribuire All'avanzamento Appunto Strategico Per quanto riguarda La gestione O finanziario Per quanto riguarda L'implementazione Di fatto Possono Potranno essere Recepiti All'interno Delle stesse Delibere Senza che vengano Replicate Di volta in volta Nella delibera Quindi c'è Semplicemente Un richiamo E non l'esposizione Questo Per semplicità Di esposizione Ma anche Per sintesi E per focalizzazione Esatta Di dove va A parare L'atto Che si va A produrre L'ultimo Aspetto Riguarda L'efficacia E più Un controllo Gestionale Che viene Spostato Dalle singole Azioni O compiti Agli obiettivi Cioè Cioè Un conto Dire Dal punto di vista Strategico Noi vogliamo Raggiungere Un determinato Panel Di obiettivi E quindi Andare a misurare L'avvicinamento A quegli obiettivi Altra cosa Invece L'elencazione Pedissico Degli azioni O dei compiti Che sono funzioni Non tanto Ovviamente Della parte politica Quanto Della parte Dirigenziale Ma che da soli Non assolverebbero Comunque Alla realizzazione Dell'obiettivo Perché possono Anche variare Nel tempo Le azioni E i compiti Possono evolvere Possono essere difformi Anche Rispetto a quanto Si era inizialmente Preventivato Pur mantenendo Invece La necessità Del conseguimento Dell'obiettivo Atteso Ecco Questa Erano In estrema sintesi La filosofia Che permea Il nuovo regolamento Per i controlli Interni Che è già stato Illustrato In capigruppo E che Avete avuto Agli atti Nei dettagli Ovviamente Dei 12 articoli In cui Si sviluppa Possiamo Entrare Ovviamente Con la consulenza Dei tecnici Presenti in aula Se da voi Richiesto Grazie Grazie Signor Sindaco Chiusa la fase Dell'illustrazione Della delibera Apro quella Del dibattito Non vedo Consiglieri Iscritti A parlare Per cui Chiudo la fase Del dibattito Apro la fase Delle dichiarazioni Di voto Non essendoci Consiglieri Iscritti A parlare Lascio La parola Signor Segretario Per La votazione Che in questo caso Prevede solo La votazione Sull'approvazione O meno Della delibera Sindaco Favorevole Pietro Regazzoni Favorevole Tagliaferri Assente Paolo Tavola Favorevole Anna Sanseverino Favorevole Nigriello Favorevole Campione Assente Fusi Assente Paindelli Favorevole Battarini Favorevole Chiara Frigerio Favorevole Matteo Ripamonti Favorevole Luca Visconti Favorevole Sauro Sangalli Favorevole Paola Frigerio Favorevole Stefania Valsecchi Favorevole Daniele Blaseotto Favorevole Alberto Anghileri Favorevole Lorenzo Vassena Favorevole Alessio Dossi Favorevole Paolo Galli Favorevole Corrado Valsecchi Assente Giuseppe Ciresa Favorevole Emilio Minusso Favorevole Caravia Favorevole Brigatti Favorevole Antonio Rossi Favorevole Boscagli Favorevole Ettega Favorevole Corti Favorevole Parolari Favorevole Zamperini Favorevole Caterisano Favorevole 29 favorevoli Con l'unanimità il provvedimento è approvato per cui passiamo ora al punto 8 all'ordine del giorno mozione presentata dai consiglieri Regazzoni Ripamonte Anghileri Dossi avente ad oggetto viabilità e raccordo tra il nuovo svincolo del Bione e il nuovo ponte tra Lecco e Pescate lascio la parola ai proponenti per l'illustrazione del punto chiedo il consigliere Regazzoni vedo che interverrà lei quindi le lascio la parola prego Sì grazie grazie presidente abbiamo iniziato questo percorso come maggioranza e come minoranza su un tema che ci aveva già trovato con Cordi un anno fa ossia la doppia corsia del quarto ponte e quindi abbiamo deciso perlomeno di iniziare a scrivere una mozione che abbiamo detto sin da subito essere unitaria perché rappresentava appunto gli interessi di tutto questo consiglio comunale è partito un dialogo con tutti i capogruppi di capogruppo di minoranza ci sono stati punti che sono stati proposti e secondo me hanno migliorato la nostra bozza iniziale e hanno reso molto più chiaro quello che era l'obiettivo politico di questa mozione ossia non provocare nessun ritardo su quello che era già stato deciso nessun aumento dei costi e soprattutto far sì che il comune una volta come dire non rispettate una di queste due condizioni non si mettesse diciamo così di traverso rispetto a quella che era la soluzione già trovata in conferenza di servizi quindi io adesso vi andrò a leggere la mozione l'attuale bozza e poi parleremo dei successivi passi l'oggetto è viabilità e raccordo tra il nuovo svincolo bione e il nuovo ponte tra lecco e pescate considerato che la società ANAS ha provveduto a dispositare istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzato unico regionale ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 2006 per la realizzazione del progetto SS36 costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda in adiacenza all'esistente ponte Manzoni per il collegamento della viabilità locale e da realizzarsi in comune di lecco e pescate per semplicità qui di seguito denominata appunto quarto ponte la relativa conferenza dei servizi decisoria ha già espresso parere positiva all'opera con assenso esplicito dello stesso comune di lecco non è intenzione del comune di lecco ritardare una fondamentale infrastruttura per il territorio correlata alle olimpiadi invernali 2026 la città di lecco oltre alla quota di flussi di traffico in ingresso ed in uscita dovuti al suo ruolo nella gerarchia territoriale è interessata da una componente elevata di mobilità di attraversamento e una sostanziale complessità ed incapacità dei nodi di smaltire il traffico in ingresso ed in uscita dalla statale 36 con evidenti problematiche che coinvolgono la carreggiata principale della stessa l'opera in questione è stata inserita tra le opere essenziali indifferibili in vista delle olimpiadi di 2026 sopra citate il comune di lecco deve realizzare l'opera complementare al ponte ossia il cosiddetto adeguamento svincolo del bione con un contributo di 4 milioni da regione lombardia preso atto che so che leggerla mozione è un po' noioso la conoscete bene anche voi ma mi sembra giusto condividerla anche con la cittadinanza che non sa di questo nostro lavoro preso atto che al fine di progettare il nuovo svincolo del bione il comune di lecco è incaricato il centro studi PIM di valutare ogni ipotesi viaria compatibile con il nuovo manufatto ANAS quarto ponte che rendesse ottimale e più fluido il flusso di traffico da e per lecco in un'ottica di migliorare il servizio alle comunità e al territorio afferente al capoluogo lo studio realizzato dal centro studi PIM e presentato dall'ingegner Barzizza nel corso della commissione congiunta prima e quinta del 5 ottobre 22 suffragato da una puntuale analisi dei dati di traffico e da simulazioni computerizzate previsionali ha messo in luce alcune criticità viabilistiche legate all'attuale progetto e al suo raccordo con la viabilità urbana quali una sostanziale invarianza delle condizioni di congestione sulla statale 36 qualora venisse mantenuta inalterata la configurazione prevista di una corsia con sola direzione nord la perdurante tendenza allo sviluppo di una situazione di congestione allo svincolo del bione per la direzione verso la città di Lecco destinata a ripercuotersi nei tratti precedenti il perdurare di un alto livello di congestione del traffico in uscita della città di Lecco lungo la direzione sud lungo il ponte Manzoni il medesimo studio ha pertanto ipotizzato lo sviluppo di soluzioni alternative valutandone l'impatto in termini di efficienza e di recupero della capacità delle arterie coinvolte dall'analisi comparativa è emerso quale scenario più adatto lo scenario B che prevede oltre alla realizzazione di un adeguato sistema di svincoli al bione la scelta viabilistica di impiegare l'attuale manufatto quarto ponte di Anas già approvato in conferenza dei servizi dallo stesso comune di Lecco anche in direzione Pescate attivando la corsia di marcia dall'Ecco verso Pescate sul sedimo attualmente previsto per la pista ciclabile tale scenario come evidenziato dalle simulazioni mostra un miglioramento significativo della situazione attuale con un livello di servizio pari a C per l'attuale ponte Manzoni in entrambe le direzioni condizioni migliorative sia rispetto allo scenario attuale sia rispetto all'ipotesi progettuale iniziale sempre il medesimo scenario B comporterebbe un miglioramento anche lungo la rampa di uscita di Pescate e allo svincolo del Bione con riduzione di congestione e accodamenti scusate la proposta tecnica in oggetto tende dunque a privilegiare i flussi principali diretti verso la città di Lecco e al contempo garantire una corsia agevolata per la Valtellina massimizzare il vantaggio per il traffico in uscita da Lecco giudicando compatibile il progetto esistente di Anas S.p.a con una corsia permanente in uscita rilevato che l'amministrazione comunale ritiene di pari rilevanza la percorribilità in entrambe le direzioni di marcia dell'infrastruttura in progetto al fine di completare la relazione fra le due sponde dell'Adda migliorando come per la direzione nord della statale 36 anche la capacità del ponte attuale in direzione Milano sottroendo allo stesso manovre di intreccio che in particolare i fasciorari ne condizionano la capacità la sicurezza nei tratti di galleria e la paralisi della circolazione la proposta PIM non esprime incompatibilità progettuale con il quarto ponte né prevede modifiche ai tempi di realizzazione o aumenti di costi eventuali varianti progettuali non dovranno comprendere tempi e costi dell'opera compromettere i tempi e costi dell'opera principale quarto ponte così come già provata in conferenza dei servizi il consiglio comunale di Lecco dunque impegna il sindaco e la giunta affinché si adoperino nelle sedi opportune ad attivare l'opzione viabilistica di rendere il nuovo ponte permanente percorribile in entrambi sensi di marcia tra le due sponde dell'Adda tale opzione tiene conto dei tempi e dei costi già previsti andando a separare distintamente il traffico locale da quello di attraversamento con conseguente miglior scorrimento dei flussi della statale 36 in entrambe le direzioni senza la necessità di realizzare un ulteriore ponte con evidente risparmio di risorse finanziarie sia per la fase di realizzazione che di gestione minor impatto paesaggistico ambientale nonché senza procedere a esproprio demolizione di edifici privati in territori di pescate inoltre impegna la giunta a includere tale scelta viabilistica nella progettazione conseguente realizzazione del nuovo vincolo appiglione e a relazionarsi con ogni altro ente preposto affinché adotti le rispettive scelte compatibili con tale indirizzo vi ringrazio per la vostra pazienza questa è la mozione che abbiamo condiviso finora la minoranza ha chiesto di avere più tempo per esaminare questa mozione noi non abbiamo nessun problema ad aspettare consigli suggerimenti miglioramenti come già stato fatto dalla minoranza stessa fino ad oggi sappiamo che questo andrà fatto prima della conferenza dei servizi e quindi rinnoviamo la grande apertura da parte della nostra maggioranza a collaborare con voi per portare una soluzione all'ecco che ad oggi non c'è un'opera che sappiamo bene richiederà grandi sacrifici per la nostra città e alla quale siamo ancora in tempo con tutte le condizioni che ci avete proposto e che noi abbiamo accettato per cambiare e per dare all'ecco una doppia corsia per questo motivo e per dare alla minoranza il tempo richiesto per discuterne chiedo che la mozione venga rinviata al prossimo consiglio comunale grazie grazie consigliere regazzoni preciso solo che la richiesta che può avanzare un qualsiasi consigliere è lo stralcio dal punto dell'ordine del giorno quindi sul prossimo consiglio comunale lo discuteremo come ufficio di presidenza e come capiglupo come di consueto per cui a questo punto chiede che venga stralciata quindi penso che parli anche a nome dei proponenti consigliere Zamperini lei intendeva la mozione d'ordine sì grazie presidente io faccio una mozione d'ordine perché un minuto però la mozione d'ordine anche meno perché io non capisco in che modo e in che stato di diritto uno possa presentare una mozione superiore alle 200 persone mentre oltre a 1200 sono gli arresti e tutto ciò ovviamente non ci può lasciare indifferenti e per questo motivo stiamo considerando due aspetti il primo la grandissima resistenza proprio delle donne iraniane le quali in prima persona con le manifestazioni anche simboliche che stanno circolando sui media non intendono fare un passo indietro rispetto alla condanna di questa repressione che le vede marginalizzate parliamo ovviamente di studentesse ma anche giornalisti scrittrici professioniste persone cioè capaci anche di in un certo senso guidare l'opinione pubblica e poi c'è un ruolo emergente dei giovani iraniani le giovani e i giovani che pur nati sotto questo regime teocratico stanno cercando di lottare per l'affrancamento delle loro libertà individuali politiche e di manifestazione per questi motivi e ovviamente per il repudio totale che la città intende esprimere rispetto a questi fatti l'ordine del giorno che vi sottopongo è un impegnativo nei confronti del sindaco e della giunta innanzitutto ad esprimere vicinanza alle vittime di questi orrori e vicinanza anche alla popolazione di origine iraniana presente nella nostra città in secondo ordine sollecitare il governo iraniano scusate italiano ad esprimere una forte condanna nei confronti di questi fatti efferati perché sono a tutti gli effetti costituenti assassini di tipo politico in secondo ordine incidere e sensibilizzare gli organi ancora superiori quindi l'Assemblea Generale dell'ONU affinché adotti provvedimenti urgenti per fermare l'uccisione di massa dei giovani iraniani questo è quanto il Consiglio Comunale di Lecco può fare in questo momento oltre alle manifestazioni che tante associazioni hanno già sviluppato nei giorni scorsi altre mi risulta ci saranno nei prossimi però è sembrato unanime che il Consiglio nella sua interezza prendesse atto di queste atrocità e si esprimesse a gran voce Grazie signor Sindaco chiusa la fase della presentazione apro quella del dibattito Consigliera Bettega prego Sono la prima grazie a proposito di questo ordine del giorno che naturalmente condivido e voterò a favore anche perché nel dispositivo diciamo che soprattutto sono tutti e tre importanti la vicinanza il governo italiano che prenda una posizione la comunità internazionale ecco il problema secondo me proprio è che la comunità internazionale dovrebbe fare molto di più anche se mi sembra che invece faccia molto poco quando nella chat del capigruppo è arrivata questo testo che poi sì effettivamente è stato modificato è arrivata una sera io in quel momento stavo guardando la televisione trasmettevano il lago dei cigni interpretato da Roberto Bolle e Svetlana Zakarova e la prima cosa che ho pensato è che una forma artistica un'arte meravigliosa come il balletto classico in Iran non potrebbe non può avere spazio non può avere spazio perché ovviamente si vedono le ballerine si vedono le loro gambe si vedono le braccia nude spesso anche le spalle nude perché i costumi della danza magari prevedono solo due spalline e quindi un'arte eccelsa che unisce musica meravigliosa è il lago dei cigni in questo caso la musica di Tchaikovsky con la la grazia del corpo umano la potenza comunque l'esempio di come la levità sia frutto di allenamenti annuali costanti ecco tutte queste cose bellissime non può esistere in Iran perché comunque non può essere uno spettacolo al quale assistere non può essere un'arte da praticare alle bambine sicuramente questa cosa è vietatissima e nel frattempo siccome la protagonista del balletto Svetlana Zakharova appunto che è la ballerina numero uno al mondo la stella del Bolshoi è Ucraina e questo mi ha portato a pensare che probabilmente in Ucraina da febbraio tante bambine che hanno questa donna come punto di riferimento come protagonista del loro sogno come esempio perché comunque è molto popolare la danza classica ecco queste bambine che hanno questa donna Ucraina arrivata alla massima vetta del balletto probabilmente moltissime di loro non hanno più potuto fare la loro scuola di danza non hanno più potuto perché hanno dovuto lasciare la loro terra non hanno più potuto magari perché la loro insegnante magari è rimasta vittima non hanno potuto perché magari la scuola dove andavano è stata bombardata non hanno potuto perché c'è stata dal 24 di febbraio l'invasione dei cararmati russi è iniziata una guerra quindi questo mi porta a riflettere come in tante troppe parti del mondo c'è veramente in Ucraina addirittura una guerra che ha praticamente annullato i sogni non solo delle bambine per carità anche dei bambini che magari andavano a giocare a calcio piuttosto che a basket o a pallavolo ma comunque l'esempio dell'Iran man mano mi sposto verso est e mi chiedo tra paesi dove c'è l'integralismo musulmano tra i paesi dove c'è la miseria più miseria in quanti luoghi in quanti posti in quante nazioni la donna è veramente ancora in una situazione difficilissima quanto sono fortunata io che vivo in Italia e da pochi giorni abbiamo anche la soddisfazione di avere una donna primo ministro cioè io credo che questa riflessione vada considerata e credo anche che per le donne più sfortunate insomma si dovrebbe fare qualcosa di più molto di più grazie consigliera bettega consigliera chiara friggero prego grazie presidente sì anch'io dopo dati fatti in corso e con ancora più convinzione dopo aver ascoltato al presidio di venerdì i racconti di donne che si sono esposte in prima persona con tutti i rischi del caso per portare la voce di altre donne che subiscono oggi violenza non posso che aderire pienamente a quanto è stato proposto i fatti recentemente trascorsi a Teheran hanno rilanciato il tema della questione femminile in Medio Oriente e nel mondo islamico è una corsa alla libertà una rivoluzione per i diritti umani ma il traguardo purtroppo è ancora lontano le vittime sono oggi più di 250 di queste manifestazioni per le proteste e per le umiliazioni e le subordinazioni di donne la cui vita scuola attività lavorativa è regolata in maniera totalitaria donne che peraltro rappresentano oltre la metà della popolazione con un tasso di alfabetizzazione superiore all'80% e per oltre il 60% parte del corpo studentesco universitario tuttavia secondo la legge islamica queste donne hanno meno diritti dell'uomo hanno bisogno del permesso per viaggiare all'estero la loro testimonianza vale la metà di quella dell'uomo non possono diventare giudici o candidarsi alla presidenza non possono entrare in alcune banche ufficie e sono sottoposte a controlli della polizia morale sempre più stringenti 42 associazioni nei giorni scorsi hanno avviato un'inchiesta urgente con una lettera al Consiglio ONU per i diritti umani dopo un'altra giovane vittima uccisa per non aver cantato a scuola l'inno pro camenei anche la campionessa di arrampicata che ai giochi asiatici si è rifiutata di indossare il velo per solidarietà alle donne del suo paese è stata fermata e di lei si sono perse le tracce senza un'azione collettiva della comunità internazionale altri uomini donne e bambini rischiano ancora di essere uccisi aggrediti e torturati e davvero l'Iran non è l'unico paese coinvolto oggi in lotte per i diritti umani come città abbiamo il dovere di condannare questi fatti terribili e chiedere provvedimenti urgenti grazie grazie consigliera consigliera Alberto Anghileri prego sì anch'io unisco due parole e la dichiarazione di voto a favore ovviamente di questa mozione anch'io venerdì sera ho partecipato alla bellissima iniziativa al Politecnico con mia meraviglia con tantissime persone io ero un po' preoccupato di una cosa organizzata poi in fretta e furia di corsa invece c'era Laura Magna Politecnico strapieno di persone molti giovani è internuto all'assessore Zuffi a nome dell'amministrazione comunale e ci hanno commosso tutte le testimonianze degli iraniani residenti a Recco che ci hanno spiegato cosa succede in quel paese cosa che sappiamo già tutti è però sentirsele dire da chi le ha vissute è un pugno nello stomaco e io mi domando e ci domandiamo facciamo abbastanza per risolvere quei problemi presi dalle nostre beghe dai nostri dai governi dai non governi dal caldo dal freddo dalle bollette il mio timore è che anche questa vicenda dell'Iran passati 15 giorni in mese di grande discussione sparisca come è successo per molte altre questioni ecco noi invece dobbiamo tenere alta la vigilanza su questi problemi perché avere in quei paesi per futuro non dappertutto una situazione così discriminante come fuori delle donne è davvero tragico l'Arabia Saudita che è una delle nostre principali sponsor del mondo occidentale è 10 volte peggio di quella ammesso che ci possa essere peggio perché davvero in alcuni paesi del mondo la donna è sottoposta davvero a queste discriminazioni per noi incredibili perché penso che per quasi cittadini italiano e europeo sono assolutamente impensali però il mio invito è a tenere alta l'attenzione perché ripeto ho il timore che tra un mese arriverà un altro problema un altro dramma e quello ce lo dimentichiamo e invece è importante tenere sono d'accordo con la consigliera bettega la fortuna di vivere in Italia è molto alta un'Italia con una costituzione che mette allo stesso piano uomini e donne adulti e bambini è davvero un privilegio che dobbiamo tenere saldo e dobbiamo come se fosse un fiore annaffiare tutti i giorni perché sono diritti che abbiamo che dobbiamo mantenere che non ci sono per sempre quindi è importante da questo punto di vista mantenere alta l'attenzione ovviamente voteremo favore di questo ordine del giorno grazie grazie consigliere Anchieri consigliere Zamperini grazie presidente intanto le segnalo che sul nostro intervento prima è saltata la connessione e quindi non è stato registrato io invito davvero la so che lei si sta occupando di questo non mettete nei minutaggi questa cosa però fermiamo il minutaggio al consigliere Zamperini la trattiamo come una mozione non è d'ordine ma sintetico no sintetico per dire ringrazio perché so che state risolvendo il problema però è capitato di settimana spesso anche in commissione che saltasse la registrazione quindi se la seduta è pubblica e viene trasmessa però saltano i passaggi capisce che diventa è un disservizio secondo me quindi consigliere solo una cosa la seduta è pubblica vuol dire che no no non sto facendo riferimento capisco è uno strumento di cui ci stiamo dotando da qualche anno deve funzionare comunque volevo soltanto tranquillizzare chi ci segue perché non c'è stato un atto di censura ma è semplicemente non so neanche a quale riferimento lei fa prima quando abbiamo fatto la mozione è saltato sulla mozione ok perfetto proseguo a parte questa cosa un minuto poi da recuperare 30 secondi no un minuto volevo dire quindi su questa mozione che condivido le parole che sono state espresse in precedenza condivido meno invece quello che è accaduto cioè il patrocinio del comune dato a una manifestazione dove sono state invitate soltanto alcune associazioni dall'ampi all'arci e altre associazioni d'area chiamiamole così anche se oggi il suo compleanno starà festeggiando anche per l'elezione del nuovo riconfermato presidente del partito comunista cinese però questi festeggiamenti diciamo questi festeggiamenti si interrompono nel momento in cui decidiamo che decidiamo che c'è una manifestazione che deve essere amplia e allargata a tutte le associazioni invece viene patrocinata solo quella di una parte la prossima volta vi informo che ci sono altre associazioni da provvite famiglia a tante altre associazioni che avrebbero partecipato volentieri chiusa questa sintetica sintetica premessa vi dico che da metà settembre si è scatenata questa nuova ondata di rivolte quella che ha visto poi la tragica fine di dimascia mini che è stata arrestata a Teran col pretesto del malvelo cioè di aver portato male il velo è stata brutalmente assassinata dalle forze repressive queste proteste queste rivolte sono poi diffuse quindi in tutto l'Iran hanno coinvolto più di 190 grandi città 31 province 45 università la guardia delle rivoluzioni Pasdarana sparano proiettili veri contro i manifestanti e che è stato il dato ad oggi il dato che ha portato all'uccisione di oltre 400 manifestanti e oltre 20.000 sembra che siano stati arrestati questi manifestanti gridavano a basso Kamenei a basso il dittatore cercando il rovesciamento del regime il regime che ha interrotto internet per impedire la diffusione delle immagini delle atrocità per impedire la diffusione delle notizie e delle proteste delle immagini delle proteste le unità di resistenza in Iran svolgono un ruolo fondamentale nel mobilitare diffondere e continuare le proteste in tutto l'Iran negli ultimi 43 anni sono stati giustiziati 120.000 attivisti politici ovviamente è una cifra per difetto Amnesty International ha ripetutamente chiesto l'accusa di Ebrahim Raisi per il suo ruolo nel massacro di prigionieri politici nel 1988 secondo i rapporti 30.000 furono giustiziati nelle rivolte del novembre 2019 1.500 manifestanti sono stati uccisi dai Pasdaran è stato anche incendiato recentemente un carcere il carcere di Ewin dove peraltro era come sapete custodita e trattenuta anche una nostra connazionale che fortunatamente non ha dovuto subire la sorte che invece hanno subito gli altri prigionieri tutto questo avviene nell'ombra di un regime noi abbiamo fatto quest'ordine del giorno che condivido chiedendo alcune cose che il sindaco prima ha ripetuto la realtà è che bisognerebbe fare molto di più bisognerebbe impedire a chi sostiene questo regime di potersi muovere bisognerebbe invece impedire che il regime impedisca ai dissidenti di lasciare il paese ci sono tante cose da fare servirebbe una condanna unanime di tutta la comunità internazionale questo per ora non è possibile almeno non è possibile non è ancora stato fatto quindi il lavoro da fare è molto noi continueremo a sostenere le proteste del popolo iraniano che chiede libertà e che chiede di poter sfuggire da un regime teocratico islamico che ha cancellato invece una storia quella della Persia che era diventata invece baluardo delle libertà nel mondo orientale non aggiungo altro quindi evito di recuperare il minuto ringrazio però per la condivisione di quest'aula condivisione che però non mi è sfuggita nell'incipit del sindaco che ha fatto notare a Regazzoni ecco come si fa a condividere per davvero un ordine del giorno gliel'ha detto il sindaco consigliere Regazzoni la prossima volta in pari grazie grazie consigliere Zamperini non ha neanche utilizzato il suo minuto aggiuntivo è stato fortunato battute a parte non ho ah consigliere Dossi prego sì grazie allora siccome sono stato preceduto da altri provo a dare un taglio diverso all'intervento e voglio condividere con voi alcune informazioni riflessioni che arrivano a noi da Neshat e Dayati attivista ecologista iraniana oltre che artista amica presente l'altra sera e che vive nella nostra città da tempo mettendo a disposizione la propria passione il proprio tempo per l'ecco il suo ambiente e il suo territorio condivido con voi il suo pensiero non per dire che ci sono categorie che più di altre stanno soffrendo le persecuzioni anche se probabilmente è vero ma davvero per aggiungere sfaccettature ulteriori che questa tremenda situazione assume lei dice che essere ecologisti in Iran è sempre più pericoloso l'Iran un tempo vantava uno dei movimenti ecologisti anche più sviluppati ma persecuzione paranoia e guerra hanno affondato i più vitali programmi di conservazione e sviluppo sostenibile nel Medio Oriente è stato all'inizio del 2018 che gli ambientalisti iraniani hanno realizzato quanto fosse diventato pericoloso il proprio lavoro le forze di sicurezza hanno arrestato i principali biologi del paese della fondazione Persian Wildlife Heritage Foundation recludendoli nella tristemente nota prigione citata già prima anche dal consigliere Zamperini di Ewin sono ancora lì uno di loro Cavus Seyed Emami direttore della fondazione ed eminente sociologo è morto poco dopo in circostanze che la famiglia ritiene sospette Abdo Reza Koupai ambientalista e fotografo di fauna selvatica in questo caso è stato recentemente rilasciato ma è un caso altri 4 sono stati originariamente accusati di seminare questa radicitura la corruzione sulla terra con un reato punibile con la pena di morte e che ha diffuso il panico tra gli attivisti in un momento in cui in Iran venivano condotte sempre più esecuzioni capitali la scorsa settimana come detto la prigione di Ewin dove erano stati detenuti tutti questi attivisti attivisti ambientali per la parità di genere per i diritti civili ha preso fuoco oltre che altri naturalmente inoltre per via della siccità la situazione degenera con proteste per la costruzione forzata di dighe nell'Iran centrale dandoci prova di come il clima sia sempre un acceleratore di processi di tensione si diceva effetto serra effetto guerra no? ora questo era solo per portare una testimonianza ulteriore qualora ce ne fosse bisogno e quelle tensioni tra loro si sommano e le difficoltà e le lotte per i diritti si sovrappongono spesso ad altre tensioni e necessità del tutto evidenti che coinvolgono attivisti che si battono per gli uni e gli altri diritti noi crediamo per accogliere anche come dire quanto caldeggiato precedentemente in questo senso che dobbiamo fare anche noi di più ci hanno chiesto l'altra sera a più riprese di essere la loro voce all'evento patrocinato dal comune per essere una voce forte piena e completa dobbiamo essere uniti e fare necessariamente meglio di quanto ho fatto finora possiamo provare io mi domando a cercare di essere più coesi su questo almeno sui diritti umani lavorare per trovare una caduta comune il nostro governo quello italiano mi domando se è pronto a rappresentarci in questo senso sul piano intendo del dialogo politico internazionale quindi che posizione prende rispetto a questi diritti spezzati io credo che solo unitamente e con un'azione politica chiara da parte del governo noi potremo essere veramente la loro voce altrimenti se non siamo pronti a essere pienamente la loro voce a quel punto sarà meglio tacere del tutto così quantomeno si eviteranno cocarde e strumentalizzazioni che sono sempre dietro l'angolo io naturalmente spero che si realizzi la prima delle due cose e che si possa invece appunto essere voce forte e chiara al loro fianco e quindi proviamoci insieme grazie grazie consigliere Dossi consigliere Parolari prego prima cosa diciamo che penso che in Italia abbiamo fatto un passo in avanti da quando nel 1976 si salutava come l'avvento della libertà l'avvento del regime dell'Ayatollah Khomeini questo regime è teocratico in un paese come tutti i paesi islamici dove c'è un regime teocratico il popolo è un po' meno teocratico l'Islam non è l'unica religione iraniana o della partia perché chi conosce e sa questi nei libri di storia sono i parti dove Roma ci lasciò la pelle crasso a suo tempo con i persiani va benissimo fare queste cose ho richiamato l'Ayatollah Khomeini perché noi tante volte abbiamo un'isteresi da Milan Inter in cui vediamo le cose all'estero per quello che ci conviene dalla tribuna del tifoso quando parliamo quindi della condizione della donna nell'Islam dobbiamo parlare della condizione della donna islamica in Italia quindi se abbiamo questi tipi di principi dobbiamo sapere senza ipocrisie che quello che vogliamo applicare o vogliamo chiedere all'ONU vogliamo chiedere alla comunità internazionale dobbiamo anche avere il coraggio di leggerlo senza chiarisco bene pretendere di cambiare le altre culture io in quest'aula ho detto che Charlie Hebdo non aveva rispettato non tanto la religione islamica quanto le persone che credono in quella religione perché quando abbiamo a che fare con altre culture dobbiamo sempre partire dal principio del rispetto delle altre culture e se partiamo dal principio della superiorità della nostra cultura il dialogo diventa un po' più difficile quindi saluto questo ordine del giorno lo ritrovo un atto positivo nei limiti che ho cercato di indicare perché tante volte rischiamo di ergerci a giudici o a quasi avere una sorta di paternalismo nei confronti di situazioni che sono a noi molto diverse citava Anghieveri benissimo che un conto è l'islam sciita ma se va un po' più a sud con i wahabiti proprio lì non è che non li fanno mettere il velo non li fanno uscire di casa però abbiamo sempre avuto un buon rapporto diplomatico con quelle famiglie wahabite dell'Arabia Saudita no per altri motivi che non erano certamente quello del rispetto dei diritti umani quindi c'è questo passaggio va bene però dobbiamo essere un po' consapesi di non essere paternalisti e capire con molta delicatezza che questi problemi stanno venendo da noi con molta delicatezza non c'è bisogno di fare manifestazioni di fare di dividersi in tifoserie però questo problema e lo abbiamo visto in alcuni casi che per fortuna sono sporadici di un certo tipo di cultura e delle sue deviazioni perché non tutto l'islam è così sta entrando anche nel nostro paese che entra utilizzando le nostre libertà democratiche tanto abbiamo decantato stasera grazie consigliere parolari non ci sono altri consiglieri scritti a parlare per cui chiudo la fase del dibattito lascio la parola al sindaco per eventuali repliche se ce ne sono chiaramente non ci sono repliche quindi lascio la parola al consiglio per eventuali dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto per cui lascio la parola al segretario per l'appello per la votazione sindaco favorevole regazzoni favorevole tavola favorevole sanseverino favorevole nigriello favorevole paindelli favorevole battarini favorevole ah chiedo scusa frigerio favorevole ripamonti favorevole misconti favorevole sangalli favorevole frigerio favorevole stefania valsecchi favorevole daniele blasiotto favorevole alberto anghileri favorevole massena favorevole tossi favorevole paolo galli favorevole corrado valsecchi assente ciresa favorevole minuzzo favorevole caravia favorevole brigatti favorevole russi favorevole boscagli bettega favorevole corti favorevole parolari favorevole zamberini favorevole caterisano favorevole 29 voti favorevole il provvedimento è approvato all'unanimità passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali delle sedute consigliari dell'11 25 e 26 luglio procederemo con tre votazioni separate perché gli assenti erano un attimo tre votazioni separate perché gli assenti erano diversi ovviamente per l'alzata di max mi fate finire grazie allora in votazione il verbale del consiglio dell'11 luglio assenti i consiglieri Fusi, Tagliaferri, Corrado Valsecchi, Rossi, Boscagli, Bettega e Caterisano favorevoli astenuti nessuno contrari il verbale approvato all'unanimità mettiamo ora in votazione scusate per favore mettiamo ora in votazione il verbale del 25 luglio assenti i consiglieri Blaseotto, Brigatti, Ciresa, Chiara Frigerio, Dossi e Sangalli favorevoli astenuti favorevoli astenuti ok contrari il verbale approvato all'unanimità approviamo ora il verbale del consiglio del 26 luglio assenti Brigatti, Caterisano, Ciresa, Dossi, Rossi e Sangalli favorevoli astenuti contrari il provvedimento approvato all'unanimità avendo finito i punti all'ordine del giorno il consiglio è concluso buona serata a tutti sì, ciao arriva a mia scuola e pigi grazie a tutti Grazie per la visione!